Ci siamo! Bentornati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento sul canale Twitch di Round 2! Oh, finalmente, finalmente non vedevo l'ora di questo approfondimento. Parlare di videogiochi è bello, lo facciamo sempre, anche in maniera così. Però è bello vivere anche il videogioco nell'aspetto anche un po' più sia di costume, nel senso di quello che crea, ingaggiare le community, vivere con tanta passione. Creare una comunione di intenti, sia analizzandolo con tutto quello che c'è dietro, il percorso che porta, la ricostruzione storica, eccetera. Non vedevo veramente l'ora, anche perché questo gioco qui di cui parleremo adesso è una cosa che mi è piaciuta proprio tanto da giocare, con tutta questa ricostruzione di una civiltà anche lontana nel tempo e poi anche un po', se vogliamo, nello spazio, di queste isole polinesiane, bellissime, reinterpretate, FromDust, gioco che ho amato tantissimo. Marco, non era quello. Ah no? Non è di FromDust oggi? No. Non era su... mi ero preparato sulla storia, culture polinesiane... No Marco, no. Oggi si parla di medioevo, di rinascimento, puoi andare via. Ma... ah no, allora, non sono pronto, lascio spazio. Troppo no, non sono pronto, scusi. Ma c'era la giustificazione? Vado a farmela a fare da mia mamma, che è la... Ve la faccio firmare per davvero la mia mamma, che è la... Genziana, grazie per i tre mesi. Grazie. No, io sono sicuro che è vero che non vedevi l'ora. L'intro andava bene, però, l'intro andava bene. L'intro andava bene. Sicuro che è vero che non vedevi l'ora. Sì. Perché non ci sei mai. Cioè lui adesso, dove lo sapete, lui adesso se ne va. Sì, me ne vado a fare degli altri. E viene della gente... Competente. Competente. E beh, è giusto, non è che posso far finta. Cioè, Assassin's Creed è una saga che non ho mai frequentato, non è che oggi arrivo e... Fusse stato FromDust, ero veramente pronto, con anche dei reperti oceanici. Però, lascio spazio a chi, ovviamente, ne sa più di me. Spieghiamo giusto per come sarà strutturata questa... Mentre ringraziamo Polloscheggia, sta buona comprare, ringrazio mille. Spieghiamo come sarà strutturata questa live. Allora, intanto, intanto spieghiamo nella finalità. Yes. Diciamo che da qualche tempo, in particolare forse boh, 12, 13 settimane, non lo so quanti sono i capitoli di Assassin's Creed perché... Siamo arrivati a un po' perso il conto. Dopo altri... Hanno tolto anche i numeri, tra l'altro. Eh? Hanno tolto proprio anche i numeri. Ma sì, poi ormai diventa... Liberi tutti, liberi tutti. Dopo il 3... No, il 4 c'è. Mix. 4... 4 Black Flag. 4 Black Flag, ok. Vabbè, insomma, da un po' di tempo a questa parte Ubisoft sta facendo un conto alla rovescia, dedicando ogni settimana ad uno dei capitoli di Assassin's Creed, partendo dagli ultimi, che proprio non ci sono... Non fanno parte proprio del... Del tuo background. Del mio background. E arrivando ai primi. Con l'obiettivo di giungere il 10... Con comitanza, esatto, con l'evento che sarà sabato 10 settembre. Che noi seguiamo. Che noi, tutti, voi con noi, non è che lo seguiamo da soli, tutti quanti insieme sabato 11 con la presentazione delle novità, ovviamente legate sia al franchise di Assassin's Creed, che a tutto quello che Ubisoft in generale come publisher ha da presentare durante il suo Ubisoft Forward. E ci è venuto da chiederci come mai, insomma, faccia questa... abbia innescato questo conto alla rovescia, perché di solito, insomma, è anche particolare che abbiano deciso di partire da lontano. Cioè, i giochi che sono più lontani rispetto all'evento sono quelli più recenti. E quelli che sono più vicini, e che quindi idealmente, diciamo, saranno anche più freschi nella memoria dei giocatori che vorranno... che volevano seguire questa attività, sono quelli più antichi. Quindi chissà che nel futuro di Assassin's Creed invece non ci sia un ritorno al passato. Io, fingers crossed, ci metterei la firma, perché se si tornasse, diciamo, alla struttura dei vecchi sarei molto felice. Ma, in generale, al di là appunto di questa sorta di conto alla rovescia, la nostra idea era quella di prendere un attimino i giochi per parlare un attimino... per parlare di altro, sostanzialmente, e parlare di cultura medievale, di come i videogiochi abbiano rappresentato e romanzato la storia. Ma anche di quello che quei giochi lì, in quell'epoca, lo ricordiamo, insomma, il primo è uscito nel 2007 e il secondo due anni dopo, con un anno di stop che poi non si è più verificato fino a Origins, fino a Origins, sostanzialmente. Cioè, il punto è, noi non volevamo solo riportare su Twitch quei videogiochi, facendoveli vedere come sono invecchiati. Ce ne frega moderatamente. Succederà, perché comunque, mentre giochiamo, ci vedrà. Però è proprio un pretesto, un mero aggancio per partire dal videogioco originale e parlare con due persone diverse, che sono Marco Esposto, come ti definiamo Marco Esposto? Uomo che sapeva troppo. A parte uomo che sapeva troppo. Guru della community. Amante di Vito Yuvara, che è qui in chat, ma è stato chiamato in qualità di, esatto, esponente della community di Assassin's Creed. Poi ve lo racconta, adesso ve lo racconta che cosa ha fatto lui. Quindi, diciamo, un fan che ha vissuto quell'epoca e che ha anche unito, di fatto, delle persone che condividevano la stessa passione. E poi, con un amico mio personale, ma anche uno storico, che invece approfondirà un po' i temi del gioco, senza farla diventare una lezione pallosa, ma anzi, molto così raccontata. Questo è quello che speri tu. Io voglio sapere che cazzo hanno fatto il 28 agosto del 1476. Quindi, l'idea è, appunto, videogioco, si parte da lì, nel frattempo sarà anche comunque on screen, perché tra l'altro io non lo vedevo da anni e devo dire che è invecchiato comunque molto bene. Vabbè, tu hai visto la remasterizzazione inclusa nella Ezio Collection, che il resto è comunque un gioco di grande valore pubblicato su PS4, con un po', diciamo, la tirata lucida. E quindi si parte da lì per, appunto, approfondire e raccontare qualche cosa d'altro. Poi, su, ragazzi, stiamolo già a dire, poi vado ma veramente questo ci tengo, niente leak, niente cose su cosa succede col prossimo, eccetera, eccetera, perché uno, sapete che su Round 2 non ci piace alimentare il chiacchiericcio un po' inutile, e spesso anche un po' cazzaro. E due, cioè ci sarà tempo comunque per ampiamente fare tutto il toto scommesso su quello che verrà presentato sabato 10 settembre, e quindi ne parliamo lì. Oggi celebriamo, appunto, il secondo capitolo di Assassin's Creed. Dovete darmi voi anche degli input, quindi su quello, sui argomenti di cui chiacchieriamo, fate le domande avanzate. E fatemi anche sapere quanto volete vedere il gioco e quanto invece vi piace l'idea di averci come sottofondo. Tanto il gioco non è che ci metteremo mai a focalizzarci sulla missione in corso. Sì, sì, esatto, non seguiremo il gameplay vero e proprio vi facciamo vedere come erano strutturate le side quest. Non è questa la base di partenza di questa diretta. No, assolutamente no. Qualcuno dice una visitina alle cortigiane è d'obbligo, questo la faremo e chiederemo anche a Yuri se la rappresentazione ludico-pittorica delle cortigiane è appropriata oppure se è un pochino romanzata. Chi lo sa? Chi lo sa? Yuri dice che vi odio tutti? Si sta ubriacando. Credo che si stia ubriacando anche dietro le scene per l'emozione. D'accordo. Roberto dice sbalorditivo. Marco, me ne vado. Sciacquati. Arrivederci. Grazie a tutti. Buon divertimento. Levati da tre passi, come si direbbe nella Firenze di 2004. Arrivederci. Ciao, ciao. Va via Marco, arriva invece un altro Marco. Ta-da! Ta-da! Saluto tutti, in particolare Vito Iovara. Prenditi un po' avvicini. Sì, sì, ho visto, ho visto. Tra l'altro per difendere te, quindi ormai non sa più... Cioè, non sa da che parte vi girarli. No, no, sì, sì, totalmente, veramente. Ciao a tutti, ciao a belli. Alcuni li conoscono. Chi è che conosce questo signore qua? Perché secondo me è qualcuno che comunque, insomma, ha seguito, se non le verità dell'Animus, anche le tue... Le mie verità. Le verità dell'uomo. No, vabbè, tu hai scritto anche su IGN. Sì, scrivo ancora su IGN. Italia. Sì, fa IGN Italia. Faccio anche Twitch. Ho un canalino che è intorno da nannettino, ma proprio così un po' per divertirmi. Quindi passate a trovarmi. Sì, sì, ci sono. Poi su internet, i forum, insomma, nelle chat, delle live, insomma, esisto. Rodrigo Borgere una merda sia o no, lo chiediamo dopo, lo chiediamo dopo, lo chiediamo dopo. Conosciuto grazie al Farenzone. Perché? In che rapporto stai con? Io sono molto amico di Farenz. Ok. Ci siamo incontrati anni fa. E qualche volta vado ospite da lui quando vuole chiacchierare di roba. Ok. GTA, cose simili. Senti. Che facciamo? Lo mettiamo, sto gioco? Lo mettiamo, lo mettiamo. Ma mettiamolo che ce lo guardiamo un attimino. Aspetta un attimo che devo... Che anch'io era un po' che non lo vedevo, eh. Eh, io l'avevo rigiocato appositamente per fare, diciamo, le prime missioni. Noi ce lo vediamo piccolino, in un angolo. Allora, ci racconti chi sei e che cosa è successo quando uscirono gli Assassin's Creed e perché ti abbiamo chiamato in qualità di esperto. Ho già fatto un salto. Ma intanto non si gioca per fare i problemi. No, 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 no. Si gioca per tornare, per essere un po' toscani tutti oggi. Ah, sì? Chiedono il mio canale. Uomo che sapeva troppo. Mi trovate così dappertutto in qualsiasi lido internetiano. Allora, era il 2007, perché oggi parliamo del 2, ma ovviamente si è partiti con il primo all'epoca. In realtà era il gennaio del 2008. Tutti avevamo finito un po' il primo Assassin's Creed, che aveva avuto quella rivelazione finale di glifi, di cose, di cui poi... Il primo Assassin's Creed che comunque, nella sua imperfezione, aveva lasciato un segno, secondo me, indelebile sul mercato. Era un... a livello di produzione, a livello di filosofia, era una cosa che non si era mai vista nel mondo dei videogiochi. Sì, fra l'altro, io non sapevo che ci fosse la parte nel presente. Io pensavo fosse un gioco storico. Nessuno. Nelle riviste, nelle cose. Poi comunque nel 2007 internet era ancora un po' a me, era appena arrivata la DSL, cioè una roba veramente da medioevo. Appunto. Da medioevo. Lo scopri proprio nel gioco, quindi amante di queste cose un po' no... Folli, cospirazioniste, me ne innamorai. Se ne innamorò gran parte del pubblico, che però fece notare a Ubisoft, insomma, che mancava qualcosina. Insomma, c'era un po' poco da fare nel primo Assassin's Creed. Infatti si presero un anno di pausa, cosa che per poi, per un sacco di anni, non è più successa. E tirarono fuori il Assassin's Creed 2, con il buon Ezio Auditore, che stiamo vedendo adesso, saltellare sui tetti di Firenze. Però nel frattempo era esplosa una community, c'erano varie community in tutto il mondo. E in particolare quella che, diciamo, avevo cofondato, diciamo, perché poi l'aveva fondata Francesco Del Rio, cosa delirante. Che magari anche qui qualcuno si ricorderà. Facciamo una live anche poi, in tempi non sospetti, in tempi di Origins, credo proprio con te, Fox. Sì, sì, eravamo febriati, c'eri tu, c'era Fra e c'era il doppiatore di... Di Bayek. Sì, di Bayek. Fondammo questa community, in realtà, per essere una sorta... C'era una roba tipo mistero di Italia 1, dove prendevamo i glifi, dove prendevamo... Cioè dove andate a fare le indagini. Le indagini. Infatti, come dicevo prima a Francesco, paradossalmente, oggi noi ne parleremo appunto dal punto di vista anche storico, così impattante, ma alla community quella più, lo zoccolo duro di Assassin's Creed, del passato non è mai importato niente. Volevano sapere che cazzo sarebbe successo a Desmond. Sì. Cioè come la diatriba tra Templari e Assassini poi si sarebbe... Cioè si era anzi sviluppata negli anni e come era arrivata al presente. Sì, e soprattutto scoprire tutte quelle cose che in qualche modo erano storiche, che però venivano ricondotte ai frutti dell'Eden. Quindi che ne so, eventi misteriosi mai spiegati, che venivano appunto spiegati con l'uso dei frutti dell'Eden, delle cose... Perché poi la saga ha preso una piega sci-fi, anche un po' strana. Io in tempi non sospetti lo dissi, perché già nel duo a un certo punto si vede una specie di... come si dice, di hologramma, con questo Isu, l'antica civiltà che ha dato origine in realtà all'umanità, poi ci ha spiegato la saga. Io scalo il campanile intanto. Tu scala il campanile. Ci provo. Ma non c'è il battistero, ricordiamolo, quindi non puoi scalare il battistero. Ma il campanile non si scalava dal basso, ci si doveva lanciare. Come si è successo? No, forse da qua, perché l'Assassin's Creed 2 aveva ancora questa cosa, che dovevi studiartele un po' le arrampicate. Sì, infatti devo salire dal duomo, sai. Perché nel tempo, già in Origins, per dire, sei arrivati al poter scalare qualsiasi cosa. Vedi già gli esperti, non puoi da sotto fossa. No, e c'era questo hologramma di un Isu con in mano una pistola a raggi. Gli ho detto, ragazzi, guardate che il trash, alieno, viaggi nel tempo, cos'è? E dietro l'angolo, molti risero, ma no, ma dai, invece poi... E invece, avevi ragione tu, già sapevi troppo all'epoca. Già sapevo troppo, sì. E niente, quindi, insomma, nacque questa comunità, che era Le Verità dell'Animus, poi ne nacquero tante altre, che indagavano i misteri di Assassin's Creed, quindi esaminavamo ogni cosa folle, perché la saga inizialmente seminava tanti indizi qua e là. Già nel 2 c'è pieno di glifi che parlano... Ma come hanno fatto? Guardavano la live. Stavano guardando la live. Questo è streams coping. Questo è streams coping. Vabbè, ammazzatemi, dai, forza. Forza, desincronizzatemi. Stiamo facendo vedere come funzionava l'essere desincronizzati. Non pensate che possa, non so. No, 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 guarda, guarda. Tutto intenzionale, sempre. E no, insomma, ci si indagava sui misteri, sulle cose, e Ubisoft metteva questi indizi sul futuro, per dire, qua già si parla della mela di Napoleone, che avremmo visto poi in Unity. Certo. Negli anni, un po' complice il fatto che la saga è stata sempre un po' uguale a se stessa, per un certo momento. Con Origins ha avuto una svolta diversa, che devo dire, ho apprezzato. Poi in realtà mi ha stancato anche quella abbastanza presto, perché mondi sempre enormi. Io poi l'ho detto, diciamolo, Valhalla non ci sei arrivato. Valhalla devo ancora giocarlo. Secondo me, io lo voglio dire, Odyssey è stato veramente il punto di rottura. di rottura di palle. No, però è vero, è vero. Cioè, era veramente una mappa gigantesca, anche tutta abbastanza simile, perché comunque, con tutto l'amore per la Grecia che abbiamo, rinomatamente anche qui a Round 2. Però, insomma, c'erano fortini tutti uguali. Punti di domanda a non finire. E tu dici, sei stronzo tu che li vuoi prendere tutti? Sì, la risposta è sì. Dopo 200 ore di Odyssey ho detto, pausa per un po'. Però ci tornerò, perché poi Assassin's Creed, insomma, gli si vuole bene in qualche modo. Infatti, sono curioso di capire cosa succederà sabato prossimo, non questo, ma il prossimo. E niente, siamo andati avanti un po' di anni, abbiamo anche collaborato con Ubisoft. Cioè, a un certo punto, sai, i contatti sono fatti avanti, perché, intendiamoci, quando fai una community... Avevate fondato una community... Bella grossa, sì. E, insomma, che da una parte, non voglio dire che era scomoda, perché osservava tutti i leak, le informazioni, insomma, arrivate magari per vie traverse e via dicendo, però era appassionatissima. Era appassionatissima, anche fin troppo, appunto, perché, come dici tu, era un'arma a doppio taglio. Perché, magari, facevamo teorie che erano perfette, poi loro non le seguivano. Anche perché poi non dobbiamo dimenticarci che i team dietro ai videogame, ma come nei film, nei fumetti, cambiano. Quindi, quando arriva Assassin's Creed 3, che viene fatto da persone che non sono neanche minimamente le stesse, che hanno fatto il primo, come puoi pensare che tutta la trama, le cose che erano state pensate, coincidano? Quindi, insomma, a un certo punto eravamo più noi, eravamo più attenti noi alla trama che Ubisoft alla fine. Ma è normale per un prodotto così pop. Non c'è un numero in chat, io non so cosa sia, ma è due, attenzione. Non so cosa sia. Non ho ancora la spada, cioè, me l'hanno tolta, non posso combattere in città, dovrei fare le missioni, amici, dovrei fare le missioni. Non ho voglia, voglio scalare il Duomo. Io non lo so, poi ci risponderà più dopo lo storico, una Firenze un po' litigiosa, però, perché qua, dove ti muovi, ti muovi, vedo che... Però è una Firenze ancora segnata dalla congiura dei pazzi, di cui parleremo abbondantemente. Ah, il Duomo era esattamente dietro di me. Va bene. Giustamente dicono, ma non era un gioco noioso, facile, che si giocava da solo? Stiamo provando anche un po' il contrario, stiamo cercando di dirvi anche questo, con questa live. No, no, racconta, racconta, che cosa successe? No, successe che, allora, innanzitutto siamo iniziati a collaborare con Ubisoft, abbiamo fatto cose, ci hanno chiamato. Però mi vedono subito, è una rottura di coglioni. Insomma, quello che è venuto fuori, appunto, è che la stessa Ubisoft non era così attenta a tutti gli indizi che aveva seminato, ma poi col senno di poi dico, giustamente, è comunque un prodotto pop, c'era una cura, c'era una ricerca, ma non è che per forza qualsiasi filo narrativo, anche minuscolo, era obbligatorio poi portarlo avanti e portarlo a compimento in un certo modo. Intanto qui ci siamo arrivati. È già una conquista per me, eh? E vi dicono che non parli fiorentino per quello, ti? Ah, giusto. Eh, vedi, è quello. In realtà il primo grosso, così, colpo che ci arrivò fu già con Assassin's Creed 3. Sì. Che tu dici, uno che non conosce la saga, dice, ah, il terzo capitolo. No. 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 Il quinto capitolo. Il quinto. Il quinto fra quelli maggiori, ma c'erano già degli spin-off all'epoca, no? No, con... uscì Liberation, che era lo spin-off al femminile, con Aveline de Grand Prix, assieme però ad Assassin's Creed 3, quindi erano contemporanei. E quinto perché, visto il successo che poi ha fatto in realtà il capitolo con Ezio, hanno tirato fuori Brotherhood e Rivelation, che letteralmente oggi divenderebbero come DLC, perché abbiamo visto i DLC di Odyssey e di Valhalla, sono praticamente dei sequel mascherati da DLC. E quindi c'era stato un grosso approfondimento di Ezio, cioè si era preso quasi troppo spazio, secondo alcuni. Tanto che quando è arrivato il terzo, che ha concluso sbrigativamente molte cose, fra cui anche l'epopea di Desmond, quel finale ha lasciato tutti un po'... un po' così. E quindi l'animus non aveva più verità da svelare. Non aveva più verità da svelare, da lì in poi, da Black Flag in poi, la saga ha cominciato a dare più risposte che domande, ma spesso le risposte non erano quelle che ci si aspettavano, non avevano la cura che ci si aspettava. La trama nel presente, da Black Flag in poi, praticamente si è quasi azzerata. Origins, paradossalmente, con Leila Hassan, ha ridato un nuovo protagonista alla serie e quindi piano piano la community si è un po' disgregata. Poi qua me la tiro un pochino, noi non volevamo essere una pagina pubblicitaria di Assassin's Creed. No, certo. Molte community, a un certo punto, si limitavano a postare... Si sono trasformate in quello. Si limitavano a postare le news. Insomma, quando si è arrivati a fare gli auguri di compleanno agli sviluppatori, ai boss Ubisoft su Twitter, noi abbiamo detto, raga, prendiamo dalla barca. Fermiamoci qua. Ci andiamo dalla barca. Non che non si potesse fare, liberissimi tutti, però... No, no, va bene, però è una filosofia... Si, mancava un po' quella scammata vera al fine del presente, giustamente, si, si, proprio ci deluse tantissimo. Poi, come anche qua dicevo in... bellissimi momenti di sincronia. E questi io me li ricordo dal primo capitolo, erano da brividi comunque, cioè... Le torri Ubisoft... Ragazzi, questo era il... Questo era il 2009, eh. Il 2009. Il 2009 non c'era un videogioco che comunque aveva riproposto anche, insomma, con questa attenzione al dettaglio, con questa attenzione a una ricostruzione storica che magari, come vedremo dopo, è molto romanzata, però comunque, insomma, le sue basi ce l'ha. Ah, guarda, lì c'è il coso. Ah, lì è dove hanno fatto la forca, davanti al Palazzo delle Signorie. Sì, 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 sì. No, come dicevo prima nel prediretta... Yuri, che dici? Mi fermo qui? Così poi faccio... facciamo un... Poi ci devo risalire, se no... Ma ora mi fermo qui. Guardiamo un po' il paesaggio, forse... Non lasciamoci ancora. Poi facciamo il volo del... Cioè, il tuffo dell'aquila, no? Com'è che si chiamava il tuffo? Il tuffo dell'aquila, sì, il salto della febbra. Salto della febbra. Salto della febbra. O balzo della febbra. Per chiudere, un'altra delle mazzate che poi arrivò alla seconda fu chiudere le trame del presente in altri media. Quindi i fumetti, ad esempio. Molti non lo sanno, lo stesso fra è rimasto un attimo stordito di informazione. Cioè, secondo me è un utilizzo non propriamente efficace di quello che di solito viene chiamato l'universo espanso. Perché è chiaro che se nell'universo espanso ci metti anche delle informazioni rilevanti per i fan e per caratterizzare il mondo del gioco, ma non centrali per determinare la sorte di personaggi che poi si vedono nel gioco successivo, va bene. Ma se invece la sorte di quei personaggi... Viene risolta lì è una roba fuori di testa. E la cosa che fu risolta era il giunone. Alla fine di Assassin's Creed 3, senza appunto dover riassumere tutto perché tiriamo notte, c'era questo... È arrivata notte. È arrivata notte. C'era questo Isu, questo essere mitologico della civiltà venuta prima, conosciuto anche come giunone, che aveva ritrovato un corpo, perché era rimasta virtuale per anni. Aveva ritrovato un corpo e diceva, oh, adesso l'umanità è fottuta, ve le do. Cosa succede? Che arriva Assassin's Creed Origins e di giunone non se ne parla più, si dice che la situazione è risolta, tutti si chiedevano il perché, perché in America era uscita una serie a fumetti dove Desmond si era scoperto che aveva avuto un figlio. E questo figlio era stato fondamentale per sconfiggere giunone, che veniva proprio sconfitta nel fumetto, e basta. Poi si ripartiva con Origins da capo, quasi una... Quindi nessuno, credo il 90% dei giocatori non sa che fine ha fatto il cattivo principale dei giochi prima. Veramente... Un po' surreale. Vabbè, guarda, Narashelem dice, pensate che io ho conosciuto la saga grazie ai libri un po' merdosi. Mi sembra una recensione rapida e... E vabbè, secondo me lì, infatti c'è anche Alessandro che dice, what? E' perché, ragazzi, lì secondo me proprio il publisher ha preso una decisione, ha detto io non voglio più parlare, anzi, cioè magari se ci rimetto all'interno del gioco delle connessioni con quella storia lì, rifaccio l'errore di far sentire la nuova user base a cui voglio parlare un po' soverchiata dalla mole di informazioni che deve assorbire da altri giochi. Quindi sai che cosa facciamo? La chiudiamo in un'altra maniera e da qui facciamo... Tutto altro. Ero, cioè proprio tabula rasa e ripartiamo. E di fatto Origins, anche nel titolo, insomma è una dichiarazione di intenti, è una nuova origine per Assassin's Creed. Sì. Secondo me, complessivamente, insomma, ci sono tante sporcature di quella che è l'operazione creativa e narrativa di Assassin's Creed, però questo ci tocca. Sì, sì, sì. Poi va detto che un pochino ci sono fatti perdonare, proprio con lo zoccolo duro di fan, perché ci mettono nei DLC riferimenti alle cose più strette. Sì, è vero. Ad esempio, in Odyssey, giù non è torna, in Origins c'erano i DLC, quelli del primo assassino, ora ovviamente non mi ricordo più il nome, però quello che ha usato, Darius, quello che ha usato per primo la lama celata. Tutta roba messa nei DLC, perché sanno che quelli, il fan sfegatato li gioca. Il compra. Infatti, per molti fan, insomma, molto sfegatati, sono la parte migliore, più interessante, quasi, degli ultimi Assassin's Creed. Marco, io ti ringrazio per questa introduzione perfetta, ti richiamo però nell'ultima mezz'ora per poi tracciare, continuare a tracciare magari, insomma, anche dare qualche spunto per quello che faremo la settimana prossima, in cui torniamo ancora indietro e andiamo ai tempi delle crociate. Fantastico. E adesso invece faccio entrare l'esperto di storia con cui navighiamo un pochino. A dopo, Marco. A dopo. Spostalo, eh. Ok. Ciao, Yuri. Ciao, ciao a tutti. Pioggia di gong per Yuri, pioggia di cuori, dai, forza, su. Capite? Capite? Sono alto. Capite? Io ero preoccupato anche di dover spostare... Invece no tutto perfetto. Invece no. Yuri è una personcina a modo, a differenza del suo... Tu hai già iniziato a falsificare la tua età, oppure si può sapere quanti anni hai? Sei l'està che... Qui possiamo dire che ci conosciamo da trent'anni. Trent'anni. Trent'anni giusti. Pensate che Yuri veniva a casa mia, quando io ero veramente bimbo Marco. Sì. E Yuri giocava... Posso giocare con il mio amichetto Yuri? Esatto, giocavamo a Street Fighter 2, poi lui e suo fratello Fiavio si menavano davanti ai miei occhi dopo aver ripetuto le gesture sul Mega Drive. Occhio. Giocavamo a Street Fighter 2 spegnendo lo schermo. Esatto. Giocavamo senza schermo. Poi dopo giocavamo nella realtà, esatto. No, no, giocavamo a Street Fighter, ti ricordi? Anche a Street Fighter 2. Ogni tanto sganciavamo lo schermo e continuavamo a picchiarci. Vabbè, avrei battuto Foss anche così. Sì. Va bene. Yuri è uno storico, raccontaci. Allora, sì, ho studiato storia, è la mia grande passione per cui sembrerò un po' pazzo. Io inizio già subito a avvisare. Mi hai sentito prima quando parliamo. Sembrerai pazzo per il livello di approfondimento, di... No, perché mi faccio prendere dalla passione. Mi faccio prendere dalla passione e è una delle cose più belle, secondo me. Quando si parla di storia, ci si accorge subito che si parte da un punto e inizia a seguire un filo e quel filo ne ha altri e ti porta dietro e se ti perdi non sai più dove stai andando. Eh sì. Voi mi avete chiesto... Hai fatto la storia... Sì. esito per un sacco di te. Poi c'è anche una cosa del... Dai, ti mettiamo in live e tu devi rispondere a tutto. No, no. No, tranquillo. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Calmi, ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, allora. Dimmi. Ci sono un sacco di spunti che possiamo cogliere. Non so da che cosa vogliamo cominciare. Allora, io rimetto il gioco. Ce la vediamo un po'. Aspetta che... Aspetta che... Sono qui. Ok, eccolo qua. Vediamo un po' dove ci porta. Perché in realtà ci sono tante cose di cui si può parlare. Si può parlare di cos'è una città, cos'è Firenze nel Quattrocento, com'è andata veramente rispetto ai personaggi Assassin's Creed da un sacco di personaggi storici. Sì. La congiura dei pazzi è il momento iniziale del gioco del... No, forse del gioco no. Ma è il momento in cui Ezio Auditore entra nella storia. Cioè si confronta con i grandi personaggi. Ovviamente qui si parla della congiura dei templari, di tutti quelli che sono coinvolti. Sì, diciamo che la congiura dei pazzi viene riletta nell'ottica di uno scontro fra templari e assassini. E ci sta. È l'accordo che il giocatore ha col gioco. Ma in realtà se si va a leggere che cosa ha comportato la congiura dei pazzi e chi era coinvolto e quali erano le diramazioni. Ma è pazzesco. Cioè la storia è più bella del romanzo. C'è dentro di tutto. Ci sono una serie di personaggi assurdi. Vogliamo partire proprio da lì? Dalla congiura dei pazzi? Ricordiamo che il gioco comincia nel 1474, quindi quattro anni prima quando lui si dà le sassate su Ponte Vecchio contro i Vieri dei pazzi. Poi quattro anni dopo, in realtà, che è appunto il 1478, quando la congiura avvenne, qui la congiura viene riletta proprio come un gioco di potere che porta alla impiccagione della famiglia auditore che era vicina, idealmente, ai medici. In realtà la congiura dei pazzi è un tentato e fallito colpo di stato. Sì, fallito, assolutamente. È innegabile che sia andato malissimo. Poteva andare diversamente, forse. Adesso magari ce la raccontiamo un po'. Sì. Allora, cos'è Firenze nel Quattrocento? Vai, tutto. Firenze è una repubblica. Cioè Firenze nasce come uno di quei comuni medievali che poi hanno tutta una serie di vicissituri per cui di fatto quasi tutti diventano dei principati. Cioè una famiglia potente guadagna il potere, era il titolo di Duca, di... ad esempio per Milano, penso agli Sforza. Firenze no. Firenze, nella seconda metà del Quattrocento, è ancora una repubblica per cui ha delle cariche che sono persone al comando che prendono le decisioni, fanno parte di vari concili, ci sono i dodici, gli otto di giustizia, eccetera. Apparentemente è il popolo di Firenze che sceglie e che comanda. Di fatto, da tre generazioni, il sistema è controllato dai medici. Ok. Diciamo che all'interno della Repubblica di Firenze tutti i maschi adulti che pagavano le tasse, quindi erano proprietari di qualcosa, potenzialmente potevano essere estratti a sorte per ricoprire una delle cariche principali della Repubblica. Ok? Idealmente. Idealmente. Poi però c'erano delle liste che dicevano chi non poteva far parte di questa cosa. Ad esempio, i nemici dello Stato. Ad esempio, gli insolventi. Ad esempio, quelli che non piacciono ai medici. I medici a questo punto non sono ancora i signori ufficiali di Firenze, però loro controllano tutti i sistemi che servono per eleggere i loro uomini. Gli uomini di potere della Repubblica. Questa è una caratteristica della famiglia. Sarebbe Repubblica Proforma. È una Repubblica Proforma. Tutti sanno che Lorenzo de' Medici è a capo della città, ma ufficialmente Lorenzo de' Medici è un privato cittadino. Ok. Questa è la base. All'interno di questo... Lorenzo è la terza generazione. Cosimo il Grande è suo nonno, è quello che fa tutto, quello che pone le basi del potere dei Medici. Poi arriva Piero, che è il padre di Lorenzo, Piero il Gottoso, rimane per pochi anni a capo alla famiglia, supera anche lui un colpo di stato, riesce a sopravvivere, un agguato. Poi ci racconteranno che sarà solamente grazie all'intelligenza di Lorenzo, che capisce che le cose non vanno, fa passare il padre a una strada secondaria e si salvano. Ok. Ah, questo è un... Lorenzo nel 469... Forza il Gottoso. Perché ci avevano tutti la gotta? Mangiavano carne, carne, un sacco di carne, poche verdure. Assolutamente. Se sei nobile, sei ricco, devi mangiare la carne. Devi proprio. In città si mangiava... Cioè, si consumava carne e in campagna si consumava verdura? Qui è un altro discorso ancora. Perché poi veniamo dalla fine del Medioevo, il 300, il secolo della Grande Peste, carestie, eccetera. Per, diciamo, i secoli finali del Medioevo, l'alimentazione base dei poveri, ma soprattutto dei cittadini, è il pane, il grano. E infatti, una delle cose che si può vedere guardando all'esterno delle mura, noi dovremmo trovare una serie di sobburghi e una serie di campi e di orti che circondano la città. Perché banalmente Firenze, a metà del 400, ha 50.000 abitanti più o meno. Adesso è guai, purtroppo. Di notte, però, l'abbiamo visto prima, lo vedremo di nuovo dopo. E 50.000 persone mangiano un sacco di roba. E se questa roba... Ur... Eh... Quasi, dai. Ho preso proprio un angolino sbagliato. Però adesso risali e vediamo di nuovo il panorama. Sì, sì, sì. E quindi importare cibo è complesso, costoso e quindi lo vuoi avere. I terreni attorno alla città sono i terreni più ricchi. Tutto questo... Lorenzo diventa capo della famiglia Medici e quindi capo di Firenze quando ha 20 anni. Non è un momento facile. Lui viene aiutato dagli zii, viene aiutato dalla famiglia. Comunque c'è un clan dei Medici. Ci sono famiglie ricche che stanno assieme ai Medici e che li aiutano a governare. Dopodiché c'è la seconda famiglia più ricca di Firenze che sono i Pazzi. I Pazzi sono dei rivali naturali, dei Medici, ma in realtà sono anche imparentati. C'è stato almeno un matrimonio di uno dei Pazzi con una dei Medici che è stato un tentativo di evitare quello che poi sarebbe successo. Esattamente. Ok. I motivi di contrasto tra le famiglie sono diversi e si svolgono nel corso degli anni. Ad esempio uno dei momenti in cui ci si accorge che le cose vanno male, andranno male è quando si parla dell'acquisto della città di Imola. A un certo punto Lorenzo vuole espandere il dominio di Firenze e il popolo è anche felice perché è una città che si allarga è una città potente. Loro vogliono sentirsi parte di una città potente e quindi provano ad acquistare dal duca di Milano la città di Imola. Sembra che vada tutto bene se non che arriva il papa che stringe un accordo con Milano per acquistare a un prezzo molto più basso la città di Imola ma in cambio ci mette un matrimonio. Suo nipote sposerà la figlia del duca di Milano. Ok? E qui inizia a complicarsi la cosa. Solo che faccio una parentesi siamo in un'epoca in cui il potere che il papa ha è diciamo molto diverso rispetto a quello di oggi e le influenze politiche sono influenze politiche molto attive insomma fatte di nepotismo fatte di una rete di connessioni e fatte veramente cioè anche quello papale era uno stato di fatto. Assolutamente allora non l'abbiamo detto prima l'Italia di metà del 400 è un'Italia governata da stati regionali e piccoli principati se prendiamo una mappa possiamo avere il Piemonte in mano e Monferrato e Savoia e a vari principati è un po' fuori dall'idea cioè dalla dimensione italiana ok la Repubblica di Genova un po' è libera un po' è dominata dagli sforza di Milano è sempre lì sul filo Milano e gran parte la Lombardia e dell'Emilia appartengono agli sforza il Ducato di Milano il resto è la Lombardia Brescia per intenderci e tutto il Veneto stanno a Venezia scusatemi che ovviamente ha poi tutto il suo impero coloniale va verso l'est Costantinopoli i mercanti i mercati e i mercanti dell'est del Mediterraneo arrivano poi a Venezia in centro Italia abbiamo Firenze subito sotto abbiamo lo stato della chiesa lo stato pontificio con il Lazio l'Umbria e sale fino alla Romagna la Romagna è un terreno interessante perché è pieno di piccoli signori più o meno indipendenti e stanno in mezzo tra Venezia Milano Firenze e il Papa tutti vogliono un pezzo tutti provano allargarsi quindi l'intenzione sia dei Medici che del Papa è di prendere quel pezzo poi c'è il resto dell'Italia del Sud il Regno del II Sicile che ha in mano un regno aragonese tutti vogliono quel pezzo il Papa vince e ha bisogno di pagare il Duca per cui va dal suo banchiere e gli dice dammi i soldi che mi servono per il prestito il suo banchiere è Lorenzo dei Medici che voleva comprare quello stesso diciamo per la sua di città voleva comprare Imola per la sua città e quindi gli dice Suca i soldi non te li do non solo gli dice Suca gli dice proprio su anzi etta no Papa non si può dire Suca però l'effetto finale è quello ma soprattutto ordina i banchieri di Firenze nessuno deve pagare il Papa nessuno deve dare i soldi al Papa i pazzi danno i soldi al Papa Papa Assisto IV non la prende cioè scusatemi i pazzi danno i soldi al Papa e dicono Lorenzo non voleva che tu li avessi Aia però ascoltami qui i pazzi sono stati un po' merdine no snitch pazzi aspetta perché vengono anche pagati il Papa decide di fare un piccolo cambio al vertice visto che oggi si parlava di problemi con la banca Papa rinuncia ai servizi di casa medici ed ha tutta la baracca in mano ai pazzi e sono un sacco di soldi certo un sacco di soldi gestire tutti i soldi dello Stato Pontificio vedete un po' voi c'era c'era l'otto per mille all'epoca di più l'80 per mille tutte le nevi l'otto per mille il resto andava tutto a tavo ragazzi io sta live è nella storia di Twitch Italia io ve lo dico ragazzi questa live è la storia di Twitch Italia e via e poi ci sarebbe tutta l'altra serie di cose per spiegare questo però di base il concetto è i pazzi diventano i nuovi banchieri del Papa Lorenzo la prende bene per cui nel momento in cui i pazzi stanno per ereditare un altro botto di soldi lui ordina i suoi uomini scrivete subito una legge che impedisca ai pazzi di ereditare di nuovo va tutto benissimo e la pentola bolle ma questa questa è sottile questo è Game of Thrones allora intanto io voglio sapere come si fa qui a fattornaggiorno eh promette la missione è notte da troppe notti esatto faccio la missione devo fare la missione e in tutto questo si continua passano gli anni ma i motivi di scontro aumentano l'anno prima della congiura dei pazzi due anni prima adesso non mi ricordo di preciso in Umbria un condottiero dà luogo a una rivolta per cercare di conquistare le città umbre e fare un suo dominio città umbre che sono controllate dal papa lui è finanziato da Lorenzo dei Medici o almeno la gente dice dice che ok e quindi la cosa aumenta ora a capo di casa pazzi c'è Jacopo De Pazzi che viene è uno dei personaggi Assassin's Creed lui allora abbiamo dei racconti perché ovviamente quando la congiura va male la memoria di casa pazzi viene cancellata Lorenzo è terribile c'è proprio la damnazio memorie classica vecchio stile diciamo e le uniche fonti che ci parlano dei pazzi sono le fonti filo medicè e ovviamente ti dicono che Jacopo era un ubriacone che giocava a dadi che non sapeva tenere i soldi poi andiamo a guardare il suo curriculum era da decenni a capo della politica fiorentina era uno dei pochi che poteva tenere testa a casa medici non era esattamente un cretino lui non è è anche vero aspetta che la planimetria dei palazzi della signoria è stata varia io sapevo questa storia perché c'è un muro che qua non si vede che è quello sinistro di palazzo della signoria che è storto io sapevo che era storto perché non doveva andare su un terreno che era di proprietà dei pazzi questo non ti so dire allora palazzo dei pazzi casa dei pazzi è vicino palazzo della signoria ma non è confinante ok dopodiché le famiglie fiorentine avevano più proprietà all'interno della città e tra l'altro anche i loro palazzi si spostavano nel senso che da un momento alla scusate da un momento all'altro nel corso delle generazioni si poteva decidere di cambiare l'architettura la struttura di un quartiere e quindi ad esempio palazzo Medici che ora è palazzo Medici Riccardi viene costruito da Cosimo e sposta in un nuovo quartiere la sua casa ovviamente cosa succede tutte le famiglie alleate dei Medici nel corso degli anni si spostano in conseguenza tu vuoi vivere vicino ai tuoi amici vicino al tuo capo e quindi le case si muovono per certi razzi le casate si muovono comunque tutto questo se non che avevamo detto prima che il papa acquista Imola per sua nipote Girolamo Riario tra altre cose Girolamo Riario è parte dell'accordo per l'acquisto della città perché andrà in sposa a una figlia del duca di Milano che è Caterina Sforza che è un altro personaggio di Assassin's Creed noi non la vediamo come moglie di Girolamo però è presente nel gioco ok a Girolamo Imola non basta lui parla con Francesco Pazzi che è il banchiere del papa stanno entrambi a Roma si conoscono e discutono ma di quanto sarebbe bello cambiare governo a Firenze ok in più c'è un terzo personaggio che è Salviati Salviati è Vescovo di Pisa parente dei Pazzi e Pisa non ti fidà vai lui diventa Vescovo di Pisa ma voleva diventare Vescovo di Firenze c'è qualcuno che glielo impedisce è sempre Lorenzo Le Medici ora noi ci troviamo a Roma e abbiamo tre persone che vogliono Firenze e odiano Lorenzo e quindi si mettono d'accordo che sono Francesco Pazzi che è uno dei personaggi di Assassin's Creed Salviati che è Vescovo di Pisa e Girola Moriario che è il nipote del papa e un papa che comunque è incazzato perché si porta dietro diciamo 20 anni 10 anni 15 anni una decina d'anni di frizioni esattamente grazie ragazzi a Power Pizza Podcast che ci sta facendo che ci ha fatto un ride benvenuti tutti quanti è una live un pochino particolare questa ci fa molto piacere avervi qua stiamo facendo storia a partire da Assassin's Creed allora in tutto questo i tre congiurati vanno a parlare col capofamiglia Jacopo De Pazzi e gli risponde siete dei coglioni sta cosa va bene non si fa allora loro cosa fanno tornano a Roma e Girola Moriario va dallo zio che è il papa dice ma sai quale sarebbe una bella idea e il papa dice va bene se il papa che è il tuo capo perché tu sei banchiere del papa ti dice che è tanto una bella idea cambiare governo tu non gli dici più siete dei coglioni gli dici va beh allora facciamolo si fa si fa tutto il papa però è il papa e dice però mi raccomando senza spargimento di sangue perché il colpo di stato senza spargimento di sangue si sa nel senso grazia di Dio cioè nel senso sei grullo che fai no non ammazzare nessuno loro preparano le armi loro preparano le armi e ci lavorano ci lavorano per quasi un anno loro parlano con uno dei militari a capo delle guardie del papa che è il conte di Montesecco e gli dicono senti c'è da fare sta cosa dobbiamo ammazzare i medici allora noi abbiamo la confessione di Montesecco che è un documento importantissimo spoiler la congiura va male Montesecco viene catturato e svuota il sacco e quindi gli faranno anche un favore il momento finale verrà giustiziato per decapitazione anziché tutto quello che faranno agli altri e che cosa faranno agli altri? la parte facile è che li impiccano ok e poi gli fanno delle cose prima vengono torturati e anche dopo averli impiccati ok va bene poi ci arriviamo va bene lui decapitato perché svuota il sacco lui dice tutto poi ci sono i motivi per cui ovviamente la confessione è la confessione di uno che è torturato in mano ai suoi nemici e quindi dice io ho sempre voluto bene al signor Lorenzo certo ci prova fino in fondo esatto però i tre congiurati lo prendono da parte e dicono tu dovrai fare sta cosa e quindi iniziano le manovre Montesecco viene mandato a Firenze va a portare un messaggio a Lorenzo vede come è la sicurezza della casa dei medici e si va avanti e si va avanti si infiltra la spia lui in realtà è un militare per cui non è esattamente un esperto di assassini a sangue freddo lui è uno che comanda soldati vabbè alla fine si arriva all'aprile del 78 il 26 aprile è Pasqua settimana precedente ascoltate qui cioè Pasqua qui ci si arriva in realtà il piano che poi erano coinvolti anche dei signori locali ad esempio il scusate signori regionali dei signori di nazioni di stati che sapevano cosa stava succedendo i congiugati provano a farlo di nascosto però dovete già pensare a un mondo in cui c'era una diplomazia partivano delle lettere il duca di Milano scrive a Lorenzo dei Medici stai attento qualcosa sta bollendo in pentola per cui c'era nell'aria l'idea che si stesse arrivando a un punto di non ritorno lo stesso Lorenzo scrive al duca di Milano dicendogli va bene grazie ma per il momento non ho ancora bisogno di soldati Firenze la posso controllare ok l'occasione per il colpo di stato è la visita a Firenze di un altro nipote del Papa che è appena stato nominato cardinale il piano prevede facciamo un bel pranzo in una villa di campagna e mentre sono tutti presenti noi li sgozziamo come maiali perfetto a posto ci sono dei militari pronti a intervenire soldati che aspettano le campagne fuori usciti quindi avversari politici che rientrano per l'occasione se non che Giuliano sta maluccio lui non si presenta al pranzo cagotto cagotto ragazzi nel 400 non penserete che c'era la conservazione insomma arrivava il pezzo di carne te lo mangiavi ma uno su tre poi squarez io ve lo dico e via e però non si può più fare non puoi ammazzare uno dei medici perché poi i loro cioè li devi ammazzare tutti insieme li devi ammazzare tutti assieme devi tagliare tutta la testa del serpente altrimenti Giuliano che non è il più furbo non è il più forte dei medici ma è ancora un simbolo certo e poi sono problemi certo quindi si rimanda tutto si rimanda tutto e allora noi non sappiamo se ci fosse un piano B sta di fatto che quello che organizzano è noi li aspettiamo in cattedrale la domenica di Pasqua e li ammazziamo durante la messa una cosuccia nella Firenze del 400 cioè nella Firenze del 400 deve avere anche del pelo sullo stomaco per pensare di entrare in cazzo di cattedrale la messa di Pasqua che probabilmente è la seconda più importante dell'anno forse anche la prima addirittura e ammazzarli in realtà è interessante pensare a un'altra cosa noi almeno io non so credo che nessuno sappia se ci fosse già il piano organizzato probabilmente la risposta è no il problema è che il piano è andato talmente avanti che non puoi più tornare indietro metti che si fossero retti no ragazzi Jacopo interviene e dice basta ma abbiamo perso l'occasione hai 2500 soldati che aspettano le campagne la voce sta girando se molli il gioco questo è veramente il gioco dei troni ti sei buttato dentro se ti tiri indietro adesso sei morto per cui io decidi annulliamo tutto ma allora torni a casa fai la valigia e scappi prima che la messa finisca tu devi già essere fuori Firenze oppure ti butti e va come deve andare certo a questo punto e sei buttato Montesecco che è il militare quello sicuro questo è la nostra pezzo forte non può sbagliare lui si tira indietro nessuno mi ha detto che oltre all'omicidio devo fare anche il sacrilegio io non ammazzo nessuno dentro la chiesa quindi lui si caga in mano per per Gesù ok e quindi trovano come sostituti due preti e sono uno è il maestro di casa pazzi che sono due personaggi di Assassin's Creed sono i due preti che devi inseguire e uccidere perché non mi raccatta sto tipo chi è sto tipo vabbè è uno che ho ammazzato mi dovrebbe lo dovrebbe raccogliere con cerchio no vabbè ma lascialo lì poveraccio è proprio la missione quella di portarlo via e allora hai un problema va bene mi date il telecomando scusate ok e l'altra invece è un prete che passava di lì era un nobile di Volterra che odiava i medici perché avevano distrutto la sua città per cui due persone che avevano interesse a eliminare i medici perché erano alleati dei pazzi ma non erano esattamente gli assassini pronti e spietati comunque l'hai raccolto sì sì cosa succede che i medici entrano in chiesa e nel frattempo entrano anche i pazzi e qui c'è già il primo problema i due fratelli medici si mettono in due punti diversi della cattedrale ma tu scusami tutte queste cose cioè come sono arrivate fino a noi allora abbiamo due tipi di fonti principali uno è la confessione di Montesecco per tutto quello che riguarda il prima ok il piano il piano abbiamo proprio il piano racconta dove si sono incontrati che cosa si sono detti ecco come dicevo prima Montesecco ha anche i suoi obiettivi primo lui fa pello alla pietà di Lorenzo il Magnifico per cui dice ma io appena l'ho incontrato il signor Lorenzo ho capito subito che era una persona così buona lui non torturebbe mai un suo prigioniero era evidente l'altra cosa che lui fa è cerca di nascondere il coinvolgimento del papa però guarda hai il nipote del papa eravamo io sembra una barzelletta c'ero io che sono il capo del guardia del papa il nipote del papa e il banchiere del papa dormiamo tutti e tre nel palazzo del papa e ci troviamo da qualche parte che non ti voglio dire dove per parlare di ammazzare il capo di Firenze è chiaro che il papa più o meno ok questa è una l'altra cosa ed è meravigliosa abbiamo detto che è la domenica di Pasqua in cattedrale ci sono tutti la Firenze del 400 è piena di umanisti di letterari gente che di mestiere scrive scrive racconti scrive poesie scrive cronache e molti di questi partecipano c'è proprio il racconto di un cronista che era lì e vede le cose e poi ci sono tutti i cronisti successivi che come fanno a non raccontare la congiura dei pazzi la congiura dei pazzi è il momento in cui Lorenzo il Magnifico diventa signore di Firenze e non se ne parla più fino a quel momento lui aveva 29 anni e insomma aveva anche preso un po' di colpi negli anni precedenti dopo la congiura dei pazzi non si discute con Lorenzo non si scherza non si scherza più perché lui cioè perché poi la congiura è fallita una volta assorbito quel colpo lì che cazzo doveva essere veramente il crollo il crollo integrale dove c'erano dei poteri fortissimi i vicini di Firenze erano interessati a farlo cadere dopo quella roba lì basta nessuno ci proverà mai più per un bel po' ecco cosa succede? succede che i due medici sono dentro la cattedrale e stanno pregando adesso le cronache non sono d'accordo su quale momento dal via all'attacco dicono che è il momento in cui il il sacerdote che in questo caso è il cardinale nipote del papa all'altare prende l'eucaristia ok oppure quando dice ite la missa est quando hai finito tutto sei quel momento in cui ci si alza ci si muove lì lo li ti attacchi allora Francesco De Pazzi e Bernardo Bandini che sono due dei congiurati che più hanno a cuore il successo di questa cosa stanno alle spalle di Giuliano Giuliano non ha speranza Giuliano è il fratello piccolo lo attaccano lo attaccano male lo attaccano con violenza sono 19 coltellate mortali la violenza è talmente tanta che Francesco De Pazzi si ferisce malamente a una gamba non si capisce se si ferisce da solo o se è ferito da uno dei suoi nella collotazione lui si ferisce la gamba nel frattempo i due preti che devono ammazzare Lorenzo si incasinano qui ci sono anche dei racconti dicono che il membro a famiglia Pazzi che era sposato con uno dei medici urla dicendo io sono innocente non si capisce se è stato appena prima o appena dopo ok Lorenzo viene ferito al collo ma probabilmente c'è stato un momento di di pausa tra il primo attacco e il secondo per cui si iniziano a sentire le urla in chiesa quindi lui si allarma lui si allarma viene ferito al collo perché poi due che gli stanno addosso non sono degli specialisti si butta il mantello sulla manica per proteggersi dalle coltellate è un'abitudine classica del combattimento di scherma perché un coltello non passa un mantello spesso avvolto tre quattro volte tira fuori il suo spadino è circondato dai suoi amici e inizia a difendersi in realtà lui para un paio di colpi poi si mette in mezzo uno dei suoi che viene ammazzato scappa in sacristia scappa in sacristia seguito dai suoi amici nel frattempo violenza è talmente tanta che Bernardo Bandini dopo aver ammazzato Giuliano De Medici salta all'altra parte e va verso Lorenzo per cui Lorenzo scappa uno dei suoi si ferma nel mezzo viene ammazzato al posto suo e si barricano dentro la chiesa a questo punto è la confusione più completa Lorenzo con qualche amico è chiuso dentro questa stanza e spera che le porte resistano cosa sta succedendo fuori non si sa nel frattempo Jacopo De Pazzi e l'arcivescovo di Pisa salviati sono andati a Palazzo della Signoria l'arcivescovo salviato Palazzo della Signoria è il centro del governo di Firenze arriva con una trentina di uomini al seguito sono quasi tutti fuori usciti di Assisi lui entra dentro dice io voglio parlare con il gonfaloniere col capo del governo lascia un po' dei suoi uomini vicino alla porta d'ingresso ovviamente il palazzo ha delle guardie però l'idea è loro non se l'aspettano li ammazziamo chiudiamo le porte prendiamo il controllo del potere e via e lui va a parlare col gonfaloniere e inizia a raccontare una supercazzola ma lo sai ho parlato col papa che vorrebbe dare un mestiere a tuo figlio ma tiriamolo un po' per le lunghe che tempo fa eccetera il gonfaloniere che evidentemente non era un cretino dice guarda tu sei detto anche qua che io chiamo le guardie apre la porta e si trova di fronte uno del seguito del vescovo armato lo afferra per i capelli lo sbatte a terra e chiama le guardie ma c'è il panico ci sono una trentina di uomini armati dentro il palazzo del governo il gonfaloniere chiama subito alle armi tutti i servitori il palazzo della signoria se non ti sai muovere è un labirinto chiudono le porte li intrappolano raccolgono tutto il racconto è anche prendono gli spiedi per la carne che sono dei pezzi d'acciaio e li vai a cercare uno alla volta il vescovo viene catturato vengono catturati tutti nel frattempo in piazza convinto che è andato tutto bene perché poi il vescovo di pisa dice abbiamo ammazzato i medici vi dovete arrendere questi manco per il cazzo chiudono le porte si armano e vanno a caccia dei loro nemici frattempo in piazza arriva Jacopo dei pazzi a cavallo seguito da un'altra trentina di uomini che urla popolo e libertà lui urla popolo e libertà è convinto adesso mi aprono le porte io entro a palazzo del governo invece le porte sono chiude e c'è il gonfaloniere giustizia con i suoi uomini sul tetto che iniziano a tirare addosso di tutto aspetta che vado in full screen perché questa roba poi la facciamo dopo è troppo interessante e adesso c'è il panico perché poi la gente non sa cosa sta succedendo cioè in cattedrale dalla cattedrale si vedono le persone che scappano di corsa e urlano c'è gente che addirittura urla sta venendo giù la cupola sta crollando la cattedrale per cui nessuno capisce niente chi era dentro ha visto qualcosa ed è scappato abbiamo il racconto di un altro cronista di parte di casa medici dice io ero lì ho visto cosa è successo intanto sono scappato io ho visto Giuliano cadere Lorenzo non sapeva dove era io però sono di parte di medici qui non è che posso far finta di essere da un'altra parte lui corre a palazzo medici di nuovo 200 metri e questa è la distanza entra dentro io e gli altri ci facciamo aprire l'armeria prendiamo quello che abbiamo e poi cosa fa? e loro si mettono a difendere il carcello di porta medici Lorenzo è ancora chiuso dentro la sacrestia a un certo punto qualcun altro invece si organizza e vanno a cercare i capi dei medici quindi Lorenzo in sagrestia nel palazzo del governo ci sono i cardinali congiurati intrappolati si e il vescovo di Pisa con intrappolato catturato e fuori c'è Jacopo dei Pazzi in tutto questo il grande assente è il bargello il podestà che dovrebbe essere il capo militare della città che appena ci sono i problemi dovrebbe prendere 20 uomini armati e correre a pazzo signoria era il bagno cagotto cagotto la storia è fatta dalla cacca allora la situazione è questa c'è un colpo di stato adesso chi è in città e chi conta capisce cosa sta succedendo non si sa bene chi sono i protagonisti ma evidentemente qualcuno sta attentando al potere sta cercando di prendere il potere che fai? dove ti metti? perché se ti schieri con una parte vinci allora tutto bene raccogli il premio nel momento difficoltà io sono stato con te e pensa se non c'ero io con i miei amici ma se perdi perdi tutto certo e quindi qualcuno decide che forse quel giorno è meglio non portare fuori il cane ti chiudi dentro guardi un po' che cazzo succede e speri che nessuno ti venga a cercare ok in realtà poi casa medici si muove raggiungono la cattedrale arrivano alla porta sacrestè dicono aprite la porta no grazie no grazie uno dei uomini di lorenzo in realtà poi sale va su dove c'è l'organo guarda fuori si accorge che sono i suoi alleati e nella porta si apre lorenzo è salvo se lorenzo vive casa medici non ha ancora perso si fa muro attorno al capo lo si porta a casa al sicuro e poi si vanno a cercare i nemici nemici che sono sempre più preoccupati sono sempre più spaventati a questo punto si accorgono è fallita perché non hanno ucciso lorenzo dei medici non hanno preso il palazzo del governo e le campane di firenze stanno suonando a martello i nemici della repubblica hanno attaccato il governo andate prendeteli tutti i congiurati riescono a prendere una delle porte della città e scappare per cui molti fuggono qualcuno invece si nasconde in casa anche qui Francesco De Pazzi avrebbe dovuto andare da Jacopo che è suo zio capo della famiglia stare sotto con lui a palazzo della signoria e incitare i suoi uomini a combattere in realtà lui è in casa a medicarsi la ferita alla coscia che si era o auto inflitta o comunque insomma probabilmente lo cattureranno nudo lo cattureranno nudo e lo porteranno a palazzo della signoria nel frattempo mentre no in realtà Francesco è uno duro lui odiava veramente i medici mentre succede tutto questo e Jacopo prova ancora a sollevare il popolo per rivoltarsi ai medici le truppe che stavano in campagna sentono solamente le campane a martello quelle che dovevano entrare dovevano entrare una volta magari c'era un segnale c'era una non è ben chiaro allora il piano è in tre parti noi facili facili ammazziamo i medici prendiamo il controllo del governo apriamo le porte e facciamo entrare i militari se lo fai abbastanza in fretta il colpo di stato fatto bene tu vai a letto e c'è un governo ti svegli la mattina e c'è un governo diverso ed è finita sì sì perché non c'è arrivano due non c'è possibilità di azione vedi marciare sotto casa tua uomini armati che vanno verso il pazzo del governo anche se vuoi agire che cosa fai? invece va tutto storto ma gli stessi uomini che sono fuori quando sentono le campane capiscono il piano è fallito iniziano a rallentare vabbè ma noi veramente vogliamo andare a buttarci dentro una città che ci odia? via e lì è finito tutto non ancora Jacopo è sotto chiama il popolo e la risposta che si sente arrivare è palle palle allora assai mente il simbolo dei medici è uno scudo con sei sfere sei palle quindi quando urlano palle intanto è anche molto più sanguigno di popolo e libertà sì e palle palle non c'è la gorgia la gorgia è la spirantizzazione delle sorde intersonanti non si può e quindi e quindi stanno arrivando casa medici e allora non hai ammazzato il capo non hai preso il governo e stanno venendo a cercarti e il popolo di Firenze è cazzato per cui si scava Jacopo verrà catturato dopo un paio di giorni in campagna e lui prova a dare i soldi che ha addosso per dire salvatemi niente zero nel frattempo cosa succede? la violenza allora la violenza la violenza beh questo è proprio tutto un programma nel primo giorno tra i 60 e gli 80 uomini vengono impiccati o ammazzati sono tutti congiurati o amici dei pazzi o gente che aveva qualcosa da sistemare allora i primi che entrano al palazzo della signoria sono anche i primi a essere uccisi vengono chiamati gli otto di giustizia che sono un organo di Firenze che si occupa dei crimini politici fanno un processo sommario li pigliano uno dopo l'altro sommario di due ore due ore quella notte sono già tutti fuori impiccati tra l'altro fai il processo sommario a quelli che contano perché invece gli uomini che sono rimasti chiusi al palazzo signore li prendi e li butti dalla finestra li buttano dalla finestra sotto c'è il popolo di Firenze che li spoglia e raccoglie tutto quello che può prendere Francesco De Pazzi nudo e con la ferita alla gamba si rifiuta di confessare lui odia i medici e sta zitto per cui lo pigliano e lo appendono il vescovo di Pisa prova a chiedere pietà in tutte le maniere lo pigliano e lo appendono qui dalle cronache c'è anche il momento cannibal per cui attenzione questa è quasi sicuramente romanzata si racconta che appesi uno a fianco all'altro il vescovo di Pisa nel momento dell'odio morde la spalla di Francesco Pazzi appeso appeso sono appesi tutti e due ho capito e ne appendono mi sembra 5 o 6 quella sera romanzato proprio alla granza immagino di sì comunque fa colore gli altri scappano vengono catturati in realtà Lorenzo Lorenzo è ancora terrorizzato lui per dieci giorni non esce da casa sua ci credo manda lettere al duca di Milano e dice mandami subito tutti gli uomini che hai se no qui non so come va a finire c'è in particolare uno che però riesce a salvarsi che è Bernardo Bandini adesso non so se riesce a far vedere il disegno se no niente se volete c'è un bellissimo disegno di Leonardo Da Vinci eccolo lì vediamo un po' se va eccolo qua questo è Bernardo Bandini allora il testo è la descrizione degli abiti che indossa Bernardo scappa e lui riesce a scappare sul serio lui va a Costantinopoli cioè quando scappi dei medici scappi sul serio scappi lontano Costantinopoli fra l'altro in cui è ambientato Assassin's Creed Revelations quindi il terzo della trilogia di Ezio lui scappa e riesce a star lì per un anno e mezzo per cui andiamo a Natale del 79 poi in quel momento Venezia e gli ottomani si mettono d'accordo Bandini viene catturato e rispedito in ceppia Firenze in particolare lui finisce appeso ok cioè Lorenzo è spietato i suoi nemici vengono distrutti tutti quelli che sono amici dei pazzi sono forse coinvolti o anche no non è che si va tanto per il sottile vengono appese a Palazzo della Signoria proprio nel luogo pubblico del potere come se noi appendessimo i nemici dello Stato al Quirinale non è esattamente una cosa non è normalissimo in questo caso Bernardo è vestito alla turchesca cioè il testo di Leonardo descrive proprio come vestito lui è vestito da turco ora un po' si vuole far credere che lui fosse arrivato in questa maniera più probabile che dopo avergli fatto un altro processo sommario Bandini è quello che ammazza Giuliano e poi ci prova anche con Lorenzo lo vestono da turco perché è veramente il reglietto ha abbandonato la nazione la religione tutto per andare a salvarsi la vita e ha comunque fallito quindi è molto duro Jacopo che è il capo viene impiccato pure lui viene sepolto in chiesa ma i fiorentini questa cosa non piace dopo qualche giorno aprono la tomba lo portano fuori i fiorentini sono fumini sono fumini per davvero lo portano fuori bastonano il cadavere lo buttano in arno lo ripescano dall'arno lo attaccano ancora col cappio alla coda di una mula lo porta in giro per la città lo usano come ariete per battere la porta di Palazzo Pazzi e poi lo ributtano in arno i giovani di Firenze fra qualche anno li chiameranno gli arrabbiati qui invece erano morigerati non lo so in tutto questo quello che se la passa meglio è Montesecco che è stato catturato che era il militare che confessa tutto e quindi gli tagliano la testa tagliano la testa i biliottine ancora avevano da venire boia e accettone e qui c'è un altro momento interessantissimo la confessione di Montesecco è talmente bella talmente criminante che viene pubblicata e spedita in tutta Italia tutti devono leggere cosa è successo ma e qui c'è di nuovo lo spy movie che esce sembra quasi che qualcuno evidentemente Lorenzo abbia tolto un paragrafo ed è più o meno il taglio della registrazione quello dove ti accorgi che manca qualcosa ed è più o meno il punto dove lui avrebbe dovuto dire e tra i congiurati c'erano anche il re delle due Sicilie e il duca di Urbino quella parte la toglie perché a questo punto loro sapevano ovviamente di essere coinvolti sanno che Lorenzo li sta proteggendo e quindi qualcosa gli devono perché poi il papa comunque non la prende benissimo insomma è stato impiccato un arcivesco il vescovo di Pisa certo suo nipote parente no quello era il cardinale sono due personaggi diversi gli hanno ammazzato il banchiere tutta la sua famiglia gli hanno ammazzato il vescovo e suo nipote era il cardinale non abbiamo più parlato però mentre diceva messa lui si spaventa si abbassa dietro l'altare inizia a pregare finché arrivano gli altri preti lo prendono trascinano via il papa dichiara guerra il papa dichiara guerra il re di Sicilie delle due Sicilie interviene contro Firenze e Lorenzo sta perdendo Lorenzo sta perdendo rischia la bancarotta per assumere tutti i mercenari quali ha bisogno ma a un certo punto è un colpo di genio Lorenzo De Medici si imbarca e va a Napoli lui si consegna nelle mani il suo nemico perché è convinto che può spezzare l'alleanza tra Napoli e Roma e lui passa due mesi e mezzo praticamente prigioniero no non in catena lui al contrario lui arriva ed è convinto di poter rompere l'alleanza e i suoi nemici affascinandoli lui arriva colmo d'oro e ha regali per tutti e usa la sua abilità nell'affascinare nel parlare e quando se ne va ancora non è stata firmata la pace ma ci vuole circa una settimana perché lui rientra appena rientra a Firenze la pace è fatta il re di Napoli si ritira dalla guerra il papa rimane da solo ancora disposto a combattere ma nel frattempo arriva un'invasione ottomana a Otranto e quindi si parla di una crociata per difendere l'Italia e bisogna trovare degli accordi e in tutto questo abbiamo tralasciato almeno metà delle alleanze politiche e dei giochi che andavano indietro è un mondo meraviglioso ed è una storia bellissima di cui qui non c'è traccia nel senso viene molto romanzata ma anche molto semplificata sì per ovvi motivi certi molti di questi personaggi compaiono nel gioco ovviamente è Ezio Auditore che li deve ammazzare uno dietro l'altro non si vede grazie Dart poi grazie grazie di cuore non si vede tanto l'intervento del popolo di Firenze nel gioco non si vede questa fase non si vede il dramma della congiura sembra tutto molto più pulito di quanto non fosse sembra tutto fatto solo ai piani alti diciamo così esatto in realtà è una lotta al coltello è veramente dietro ogni angolo non sa chi ci puoi trovare e quindi motivo in più per non muoverti da solo devono essere state delle ore terribili per tutte le parti coinvolte perché poi insomma l'unico modo per comunicare è uscire in strada e andare a vedere cosa sta succedendo che è esattamente la cosa che non vuoi fare perché di notte poi figurati il terrore è massimo certo bellissimo bellissimo una storia insomma che se volete approfondire fra l'altro introduciamo la bibliografia di base mi porti i due pezzi i due volumi sulla congiura così vediamo anche dei suggerimenti di lettura se volete approfondire ulteriormente io non ero d'accordo comunque abbiamo la congiura dei pazzi di lauro martinez è un bel libro ricostruisce molto bene tutto il rapporto e tutto con il mondo diplomatico e i vari personaggi coinvolti e poi c'è un altro libro di due storici italiani molto famosi cardini e la frale con la congiura questo è stato pubblicato in occasione di un anniversario del scusami tac questo è scritto in toni molto più cupi questo si legge come un un thriller questo qua qui la congiura dei pazzi è più diciamo per gli storici sì sono due testi grazie che raccontano la storia e lo fanno in maniera accessibile uno ha dei toni un po' più boschi quindi si legge anche in una maniera un po' più romanzata ok allora ci sono un paio di domande vabbè d'ordine generale per esempio Gabriel ti chiede qual è il tuo periodo storico preferito e in quale luogo ma allora sono un grande appassionato di Medioevo che è quello che ho studiato e soprattutto del Medioevo Italiano poi è una grande passione quindi leggo un po' di tutto però sì la storia del Medioevo Italiano è una delle mie preferite del Quattrocento è un secolo che amo molto anche se poi mi piace spaziare siete delle nerd ma scusami mi avete ascoltato ascoltare Iuri contate le mie morti ma andatemi a cagare e poi questa non è neanche una morte è una desincronizzazione stronzi oh ma guardali ma tutti non è vero c'è anche chi chiede se ho letto Cipolla hai letto Cipolla sì ho letto Cipolla però è molto bravo la storia economica ma il suo pezzo forte è allegro ma non troppo un libro meraviglioso con le regole fondamentali della stupidità umana con un diagramma cartesiano che divide gli esseri umani in quattro categorie è un gioco letterario fantastico senti io colgo adesso l'occasione insomma abbiamo raccontato hai raccontato la congiura dei pazzi in una maniera veramente eccezionale ma ci abbiamo anche un'altra un'altra quindicina di minuti e io volevo sapere invece che cosa ne pensi della rappresentazione diciamo della città abbiamo visto adesso un pochino come erano le città alla fine del quattrocento allora le città alla fine del quattrocento sono delle città che stanno cambiando molto sono le città che stanno uscendo dal medioevo e stanno entrando nel pieno umanesimo la città viene anche rappresentata bene adesso al di là degli errori evidenti l'abbiamo detto prima manca il battistero quella è una di quelle cose che ti fa venire a chiedere perché però d'altra parte il gioco non è un documentario storico sulla Firenze del quattrocento e sbagliare qualcosa è facile d'altra parte ne hanno fatte tante giuste sbagliano qualcune e noi ci concentriamo su quelle allora sono città che cambiano dovete tenere presente che il medioevo italiano è soprattutto un periodo di storia di città sono città che dominano sulle campagne ed è una cosa molto particolare però se leggiamo i documenti o anche le cronache per cui sono questi letterari che abitano e letterati che abitano in una città e scrivono descrivono la loro città e sono molto orgogliosi di solito quando parlano la città ti parlano dell'altezza delle torri il numero delle torri tante torri è bello per cui hanno sempre questa idea di verticalità della città c'è pochissima attenzione rispetto allo sviluppo in piano è tutto molto libero anche se i comuni cercano di intervenire ci sono delle leggi su la polizia delle strade il controllo eccetera nel quattrocento invece si riscoprono i classici c'è Leon Battista Alberti inizia a parlare dell'aspetto il decoro urbano per cui si ricostruiscono interi settori a città per renderli più belli ad esempio una cosa che si fa spesso è quella di cercare di mettere a filo tutte le case si traccia la via che seguirà la strada e le case devono stare lì non devono entrare uscire eccetera si cerca di dare una regolarità anche il periodo in cui si iniziano a progettare delle città ideali si disegna a tavolino una città perfetta e può essere perfetta perché tanto non c'è niente di precedente tu prendi un prato e decidi cosa metterci sopra è anche un periodo nel quale i signori decidono di dare un'impostazione principesca alla città e non si va tanto per il sottile se il signore decide di ricostruire la zona del mercato e la zona del mercato si ricostruisce diventa una roba anche sontuosa diventa assolutamente sontuosa soprattutto le strade di ingresso alle città e che poi dagli ingressi dalle porte arrivano al palazzo anche perché è un periodo nel quale si ricevono gli ambasciatori e tu non vuoi far passare l'ambasciatore in un vicoletto tu vuoi far vedere una strada monumentale che arriva fino a casa tua e lui già si deve sentire sminuito prima ancora di arrivare a parlare con te quindi sono città che cambiano moltissimo allora posso raccontare una cosa che ci siamo detti dietro le quinte allora quando abbiamo fatto una piccola chiamata di allineamento io e Yuri stavamo parlando appunto del fatto che nella città ci fossero tantissimi carri di fieno io ho detto ma in realtà più che di fieno ci sono anche dei carri che portano non lo so dei petali di ciliegie dall'oriente eccoli qua non si sa come mai per amor di varietà e forse anche di colore avevano deciso di fare questo cambiamento e Yuri ha detto beh se avessero dovuto fare diciamo una città più verosimile dal punto di vista storico sarebbe stata piena di carri di merda come era la situazione diciamo del decoro urbano dal punto di vista della pulizia delle cose io ricordo che in casa mia io abito in una colonica toscana nelle campagne toscane c'ho un vecchio bagno il bagno è un cabinetto che sporge dalle mura della casa perché nel mezzo c'era un buco e si cagava direttamente nel per strada nel campo ecco nel campo in strada non sarebbero stati troppo d'accordo soprattutto i tuoi vicini non l'avrebbero presa bene allora il problema della sanità rientra nel problema del decoro che si fa beh allora dobbiamo anche capire quali sono i rifiuti che producono la città medievale perché sono diversi dai nostri ad esempio se io andassi a controllare la spazzatura di casa motura e so che ci sono i feticisti che lo vorrebbero fare no 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 non lo pare no no non lo pare mai no no Yuri 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 Apri il vaso di Pandora perfetto secondo me è diversa la sta facendo veramente il problema è che sta cercando nel frigorifero perché lui lascia le robe lì e ammuffiscono va bene ok non ci voglio credere quattro pesche ammuffite che schifo vai vabbè questi sono resti di cibo per cui è un tipo di rifiuto che possiamo trovare in una città medievale di solito grazie questo tipo di cose finiscono come mangime per gli animali soprattutto in campagna in città gli animali ci sono non sono così tanti però è un modo per smaltire i rifiuti la grande differenza su esempio i rifiuti umani gli escrementi poi lì insomma non c'è un sistema fognario così avanzato in qualche posto si è salvato qualcosa in altri posti si inizierà a progettarli ma in realtà no per cui vengono buttati in canali scolo vengono buttati in arno vengono buttati nei canali nei fiumi contaminando anche le acque ovviamente certo a Milano esempio abbiamo i navigli il naviglio meridionale viene chiamato naviglio merdolario perché è quello che raccoglie tutta l'acqua la città merdolario vuol dire anche meridionale però secondo me il gioco di parole insomma si si sottintende un'altra cosa in quel caso quindi vengono raccolti ci sono dei pozzi ci sono dei pozzi neri che vengono poi svuotati e buttati fuori l'altra cosa che è tipica come tipo di rifiuto ad esempio abbiamo diciamo le produzioni industriali ad esempio che all'epoca erano conciai esattamente ma forse anche i pescarti di animale esatto anche i macellai uno dei grandi problemi ad esempio sono i macellai per cui quello che si tende a fare guarda cito fra l'altro che se volete andare su youtube e vedere la video anteprima di Plague Tale Requiem lì parliamo proprio di questo e ve lo faremo vedere magari e magari quando lo giocheremo riportiamo anche iuri lì c'è proprio la rappresentazione di un quartiere della città che è completamente pervaso dall'odore di sangue e di viscere perché è il quartiere dei macellai e le stradine dietro ai insomma alle bancarelle o comunque insomma ai negozi dei macellai lì sono piene appunto di sangue di budella grazie davanti per allora questo succede fino a un certo punto ovviamente è un tipo di produzione che provoca rumori odori infezioni comunque sporco per cui quello che si cerca di fare è metterli assieme e portarli il più lontano possibile li metti in un quartiere a parte la città li porti fuori li raccogli ci sono delle leggi delle regole leggevo prima non mi ricordo gli estremi cronologici ma è sostanzialmente un processo che viene intentato da un monastero contro i macellai perché perché i macellai buttano tutti i loro resti tutti i loro avanzi dentro il canale e mi inquinano il canale e io poi devo prender l'acqua non va bene e allora i macellai ovviamente il racconto del processo è a posteriori cioè arrivati in fondo raccontano cosa è successo allora i macellai hanno smesso di buttare tutto in acqua l'hanno buttato contro una parete c'era un punto un angolo e lì però quello non va bene perché la strada che fanno i pellegrini i pellegrini ci rimangono male e quindi non vengono più a darmi le lemosine allora si sono la metà di nuovo allora non è un problema i macellai si organizzano passa il carretto raccoglie tutto e poi li va a buttare li va a buttare in un cimitero e a questo punto hai i cani gli animali gli uccelli che vanno a beccare al cimitero questi sono atti di un processo questi sono atti di un processo bellissimo guarda i processi che riguardano i monaci ma soprattutto le monache sono di un tignoso perché il tizio ha aperto una finestra che dà sul cortile non poteva aprire la finestra che mi guardano ricordano i miei vicini di casa quindi ci sono dei tentativi di migliorare anche proprio la salute della città e per certi versi il rendere il piano stradale più regolare aiuta anche in questo voglio dire che forse hai perso un'occasione clamorosa di fare il microfono di un giorno in pretura e mi dissocio da questa tua dimenticanza sattivo scusi ma lei lo sa dire pene come fa io ci devo convivere tutti i giorni tutte le mattine ci credo è un problema e non è migliorato negli anni dalle 10 alle 12 hai qualcosa da fare di solito sì purtroppo sì purtroppo sì ma se lo chiedi due volte mollo tutto va bene senti e qui invece c'erano anche i dottori della peste è regolare questa cosa? no proprio per niente il costume dei dottori della peste rappresentato così è una cosa diciamo tipica del 600 non so se ne trovo uno ma insomma lo riconoscete lo dicevamo prima che il 300 per cui il secolo precedente è stato il secolo della peste nera 1347-49 arriva questa epidemia pazzesca allucinante falcidia moltissime persone e poi nel corso degli anni ritorna ritorna e più o meno secondo le zone tra un terzo della metà della popolazione europea muore per di più la peste colpisce soprattutto i giovani per cui chi muore sono i giovani che poi avrebbero un disastro sociale un disastro sociale economico di tutti i tipi infatti il 300 è anche poi un secolo di in particolare per l'Italia noi lo ricordiamo perché è anche il secolo delle compagnie di ventura che sono questi eserciti mercenari senza paga senza cibo che girano per le campagne a fare cose la società ovviamente sopravvive e ce la fa perché poi in questo periodo ci sono un sacco di cambiamenti anche sociali economici per certi versi la macchina si era inceppata dicevamo prima che le campagne fuori alle città dovevano essere campagne coltivate a grano certo però se tu coltivi tutto a grano sempre costantemente il terreno si impoverisce abbatti gli alberi e se leggi le cronache fino al 300 sono cronache in quest'anno c'è stata la carestia l'anno successivo c'è stata un'alluvione poi c'è stata la pestilenza poi non avevamo cibo poi sono arrivati i mercenari poi c'è stata la carestia e si ripete si ripete si ripete poi la società si riadatta e supera questo momento quindi ritrova anche un equilibrio però sono momenti difficili già nel 300 si era convinti eccolo qua questo non ha questo non indossa la maschera ce ne sono altri con la maschera però indossa tutto il resto del costume si era convinti che la peste passasse attraverso l'aria e che quindi usare degli odori positivi potesse proteggere la pestilenza nel becco esatto prima del becco si usava qualche tipo di maschera o qualcosa banalmente anche solo per proteggersi dall'odore un appestato abbandonato a se stesso insomma non ha esattamente un odore piacevole nel 600 si va ancora più avanti e quindi c'è questa divisa completa che dovrebbe separare il medico dalla malattia e questo becco che veniva riempito di aceto e petali di fiori o essenze floreali che avrebbero dovuto proteggere ovviamente non funzionavano la barriera fisica l'aceto porca miseria immagini lì in alternativa alla peste ti serve un odore molto pungente anche proprio per separarti tutto quello che ti sta attorno anche insomma a livello di suggestione diciamo senti l'ultima l'ultima cosa le cortigiane le abbiamo viste prima so che ci tenevi a parlare delle acconciature delle cortigiane solo per dire allora in realtà mi chiedevo le cortigiane hanno questa acconciatura molto particolare con questi corni e mi chiedevo se fosse realistica io sono riuscito a trovare che nella Venezia del 600 avessero delle acconciature del genere nella Firenze del 400 non sono riuscito a darmi risposta è però vero che la tendenza soprattutto medievale era quella di rendere facilmente distinguibili le persone che avevano dei mestieri infamanti per cui le prostitute dovevano stare in zone specifiche della città e indossare abiti specifici i cornis potrebbero essere un esempio pensiamo anche poi nel 400 ai ghetti invece per gli ebrei per cui venivano separati c'è proprio questa idea della distinzione in certe città del Ducato di Milano il Duca dà ordine di costruire delle palizzate che isolino di notte i quartieri dove stanno le prostitute poi prostituta cosa vuol dire allora si va da donne che per sopravvivere devono arrotondare facendo il mestiere a delle professioniste che lavorano invece nelle locande le locande ecco l'idea che ci possiamo fare i videogiochi ci azzecca abbastanza la sala comune dove si mangia si gioca e ci si incontra e un primo piano dove invece ci sono le stanze per dormire spesso c'erano delle prostitute a Firenze di solito queste locande erano gestite dalle famiglie più importanti che gestivano quindi anche il traffico prostituzione c'è poi un'altra tendenza che è interessantissima secondo la quale i giovani maschi hanno delle pulsioni e queste pulsioni vanno espresse in qualche maniera per cui la prostituta fa un servizio pubblico fa un servizio pubblico perché se non ci fosse i giovani maschi sarebbero autorizzati a fare altre cose ecco un altro posto non so se questa insegna che stiamo vedendo è quello che immagino no niente è una robiana un altro posto in quale si praticava ampiamente la prostituzione erano i bagni pubblici per cui queste tinozze eccetera a Firenze poi me ne vado veramente c'era l'onestà che era un'istituzione che si occupava del controllo delle prostitute controllo delle prostitute significa soprattutto tassarle venivano tassate e poi con questi soldi in parte si mantenevano degli enti di pietà che avevano lo scopo di permettere alle prostitute redente di passare una vita in un'anzianità tranquilla ma l'unico modo per farli funzionare era tassare le prostitute all'origine quindi era una tassazione cioè era un tipo contribuzione è come se cercassi di pagare previdenza sociale ma interna alla categoria esatto è come se cercassi di pagare il recupero dei tossicodipendenti tassando il traffico di droga ok questa comunque secondo me è l'ospedale degli innocenti con le ceramiche in vetriate che sono quattrocentesche allora il nettuno al centro della piazza anche no meno però manca la chiesa l'ospedale degli innocenti che serviva non è questo dai non so non la vedo comunque l'ospedale è questo dovrebbe esserci anche una chiesa in questa piazza vabbè però più o meno ci siamo ecco il nettuno proprio no il nettuno no no questa questo secondo me era appunto il corridoio c'era proprio una botola dove si lasciavano i bambini esattamente gli innocenti sono i bambini che venivano abbandonati dalle famiglie dalle madri che non li potevano mantenere e venivano poi mantenuti dallo stato in particolare a Firenze mi sembra che gli innocenti venissero finanziati dall'arte della seta cioè la gilda che la corporazione che riuniva i mercanti della seta pagava e quindi faceva questo compito sociale il mantenimento dell'ospedale dopodiché i bambini venivano dati a delle balie venivano dati fuori gli si insegnava un mestiere di qualche genere e via 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 Yuri sai benissimo che ti sei fregato da solo sì sei fottuto pentiment tutto quello che avevo l'ho detto qui no non sei credibile pentiment devi venire quando giochiamo a pentiment quando giochiamo a plague tale si può venire anche la settimana prossima per le crociate 1191 non abbiamo mai parlato degli assassini in tutta questa giornata possiamo farlo la settimana però vedi tu non lo so il pubblico credo che sia credo che abbia apprezzato grazie a tutti per i regali gli abbonamenti le attestate di stima che rimando a Yuri io ti ringrazio vi ringrazio poi ti do il link del mio capo al quale puoi scrivere per dire che mi deve distaccare qui io vengo volentieri e poi vediamo va bene Yuri grazie ancora vai no la risposta è no sono invisibile online mi spiace e ti va bene così sì è una scelta ok su round 2 ogni tanto su round 2 lo prometti solo per gli amici con piacere grazie grazie a te ciao grazie a tutti qua dietro applaudono torna Marco ciao Marco buondì sono curioso di sapere che cosa ne pensi allora no adesso ne cazzate brutti allora volevo dire che non ho potuto seguire tutto maestra perché Mottura mi faceva i dispetti quindi se prendo un brutto voto non è colpa mia no io sono curioso di sapere che ne pensi da appassionato comunque cioè nel senso credo che il gioco originale tu l'abbia spolpato all'epoca della sua uscita sì 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 più e più volte beh mi è piaciuto un sacco finazzo il racconto della congiura dei pazzi questa roba qua che che forse probabilmente se oggi facessero Assassin's Creed aspetta che ringrazio Chiara e Cydonia credo sia Chiara che streamava nel pomeriggio grazie mille per il ride benvenuti a tutti quanti vi dico questa cosa vi siete siete arrivati alla fine di una disquisizione storica veramente incredibile che vi consiglio davvero di 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 recuperare poi in replica abbiamo raccontato una cosa non per farci pompina soli ma non c'è stata secondo me niente di simile su Twitch in Italia sono abbastanza d'accordo Luna Rap grazie per i due mesi grazie Ernie On stiamo parlando comunque cioè la storia l'abbiamo fatta partendo da Assassin's Creed 2 e appunto raccontando la congiura dei pazzi la vita delle città del medioevo e adesso con Marco che è uno dei fondatori di una delle comunità storiche di di Assassin's Creed torniamo a chiacchierare anche un po' di quella che è stata l'influenza del gioco e perché no anche il che tipo di interesse ha risvegliato il gioco per la storia per il turismo assolutamente innanzitutto nei media anche in televisione soprattutto anche in Italia visto che poi questo era ambientato in Italia si è usato tantissimo Assassin's Creed cioè ricordo davvero da Super Quark a qualsiasi cosa ovviamente finendo fino a Mistero e Bossari che si fa ipnotizzare per viaggiare nell'animo ovviamente alti e bassi però però c'è stata un'esplosione assurda io tra l'altro era il 2009 io sono dell'89 quindi avevo 20 anni ero ancora al liceo perché mi piaceva così tanto studiare che pensa che ho voluto anche ripetere un anno per restare al liceo no comunque si parlava un sacco di Assassin's Creed addirittura forse la mia prova di storia accennò qualcosa del fatto che anche lei aveva saputo di questo videogioco insomma comunque era è stato un po' un momento di secondo sdoganamento del videogame di fatto perché il primo forse era arrivato con la prima Playstation diciamo così pre-Playstation il videogame era una roba veramente di nicchia super settoriale per i nerd ok con la prima Playstation anche per il fatto che la console sape parlare un attimino la console è esclusiva l'AP sape parlare una generazione diversa forse si cominciò a percepire che insomma si stava costruendo un ambiente certo e qui però fu la definitiva consacrazione secondo me presso il pubblico proprio diciamo mass market cioè di Assassin's Creed secondo me lo sapevano tutti sì 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 a un certo punto era davvero cioè era diventato quasi il FIFA o il PES cioè quello il giocatore occasionale che magari comprava due giochi l'anno se uno era FIFA o comunque un gioco di calcio o uno sportivo più di corse l'altro era Assassin's Creed poi anche questa sua facilità diciamo comunque del fatto che il parkour di fatto è automatico può capitare di cadere che non è mai successo in questa live ma può succedere però aiutava sicuramente il fatto che fosse molto narrativo anche aiutava il fatto che anche chi magari fosse meno avvezzo ai videogiochi in generale lo giocasse abbiamo qui un'assassina che ha fatto un salto della fede e quindi c'era stato proprio un boom e Assassin's Creed ha evitato tanto non so neanche quanti milioni di copie la saga in toto credo è una cosa impressionante impressionante prima stavo dicendo che se lo facessero oggi Assassin's Creed 2 con tutto quello che lui ha raccontato Yuri sui pazzolo cioè ci andrebbero molto più a fondo secondo me assolutamente in un'epoca di Game of Thrones di intrighi secondo me diciamo si vede che era un'epoca ripetiamo 2009 era un'epoca in cui il videogioco non aveva neppure le ambizioni che è oggi ora qui la ricerca storica c'era però appunto il racconto era estremamente romanzato e più che altro era una ricerca anche visiva cioè il team aveva fatto un sacco di scatti un sacco di aveva preso un sacco di reference visive e alle volte non poi propriamente diciamo rese al meglio poi assolutamente no con tante libertà tant'è che alle volte trovi delle facciate che non erano quelle dell'epoca delle chiese sono quelle odierne ma magari ci sono stati poi degli interventi di ammodernamento o dei restauri che poi sono filtrati nel gioco secondo te l'approccio che Assassin's Creed ha avuto con la storia che poi Ubisoft in realtà ha portato avanti comunque di questo bisogna dargliene anche anche i titoli meno riusciti comunque sia ha sempre cercato di raccontare una fascinazione storica secondo me in maniera anche abbastanza efficace ha cambiato anche l'approccio del videogioco stesso a questo tipo di approfondimento postmoderno come lo possiamo definire sì secondo me sì c'è stata molta più esplosione di titoli che in qualche modo si rifacevano alla storia prima che all'elemento fantastico tolti ovviamente magari gli sparatutto che già con le guerre mondiali avevano dimostrato di farlo devo dire che però pochi secondo me ci sono riusciti bene come Assassin's Creed cioè forse tu hai parlato di A Plague Tale magari quella sì cazzo però A Plague Tale sono pochi anni fa no infatti infatti forse solo nell'immediato in effetti pochi secondo me sono riusciti a fare quello che ha fatto Assassin's Creed in questo modo cioè di dire il loro motto era la storia del nostro parco giochi history is our playground però sì sicuramente ci hanno provato cioè tantissimi poi sicuramente l'esplosione per il medioevo per le figure per gli intrighi per le figure incappucciate in sé era rie esplosativo mi ricordo quando è che quando è che era uscito invece Dan Brown il romanzo di Dan Brown secondo te c'è una correlazione fra quel quell'interesse lì cioè è precedente o posteriore Marco va a cercare sono curioso in effetti perché sicuramente ah 2003 ok sicuramente questo ha fatto riesplodere tutta ecco forse più che a livello storico a livello fantastorico di intrighi di cose cospirazioni i templari i misteri dei templari cioè io prima ho fatto la battuta di bossari che a mistero si fa ipnotizzare però veramente programmi di quel tipo anche un po' che andavano a cercare gli alieni che in qualche modo ci governano da sempre queste cose qua in effetti sono esplose a mille con assassin's creed e anche secondo me il modo in cui si scava nella storia e anche nei giochi stessi di assassin's creed si inseriscono degli easter egg sì cioè gli assassin's creed 2 brotherhood soprattutto erano quelli che avevano messo i glifi cluster quindi si andava uno l'abbiamo visto di questi glifi prima ho visto infatti uno l'abbiamo visto allora c'erano ovviamente degli elementi che erano molto più riconducibili al canone classico degli open world le piume che ho raccattato prima certo quindi i collect tone anzi quello poi negli anni è andato esagerando assolutamente sì forse davvero black flag è stato l'ultimo che ha trovato un buon equilibrio fra collectible e interesse di questi collectible perché ste cazzo di piume ma che me le facevo però hai ragione tu c'erano anche invece dei misteri e credo che per questo poi voi abbiate fondato anche le verità dell'animus perché c'erano dei misteri che erano un po' da collezionare ma che ti davano una suggestione cioè contribuivano poi alla costruzione in realtà di questa fascinazione avvolgente di questo mondo tant'è racconta che cos'erano i glifi perché sì sì esatto perché magari i glifi erano questi enigmi che andavano risolti esaminandoli con l'occhio dell'aquila quindi con l'abilità innata degli assassini e c'erano e andavano fuori innanzitutto anche dal medioevo nel senso che c'erano opere che magari non so quadri dipinti anche fotografie addirittura io ricordo il rifugio di Hitler che è crollato e ovviamente su un muro Ubisoft aveva disegnato il simbolo degli assassini ma in una maniera poi lo facevano che sembravano realistiche cioè a volte andavi a vedere delle foto dire ma c'era davvero il simbolo degli assassini poi alcune volte sono stati aiutati dalla storia stessa perché effettivamente alcune foto alcuni ritratti alcuni insomma il simbolismo poi dei quadri insomma era pieno di simboli tipo le sei sfere che abbiamo detto prima ovviamente erano la mela dell'Eden per tutto qualsiasi oggetto sferico ci sia in un quadro Assassin's Creed lo riconduceva la mela dell'Eden non lo so c'era un ritratto di Napoleone si vedeva che sotto nascondeva qualcosa mela dell'Eden cioè qualsiasi cosa era un frutto e anche qua lo diciamo per chi magari è meno avvezzo le mene dell'Eden erano questi strumenti tecnologici che erano stati creati appunto da una civiltà precolombiana che poi ecco però Assassin's Creed ha messo in chiaro secondo la sua lore che ci ha di fatto creati cioè proprio ha modificato i primitivi questi insomma l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo e l'ha trasformato in quello che siamo noi senti si può dire che insomma al di là di tutto forse questa attenzione per la ricerca storica secondo me è aumentata negli anni cioè gli ultimi tre capitoli Origins, Odyssey e poi Valhalla che ci hanno quella propagine solo educativa che si chiama Discovery Tour molto interessante è super interessante e mette sicuramente insomma al centro della scena la grande ricerca che c'è che sicuramente è più attenta anche a rispettare quello che era la storia e quando si allontana dalla traccia del reale lo scrive cioè per esempio uno dei più bei Discovery Tour è sicuramente quello di Origins perché vabbè è tutto legato anche alla civiltà quando entri nelle tombe ti dicono cazzo noi abbiamo modellato l'ingresso nella tomba così per un motivo ludico di game design però l'ingresso della tomba era in quest'altra maniera quindi è anche bello che riconoscano questa cosa qui e che ne rendano conto al pubblico però sicuramente quest'opera di rilettura della storia qui era molto più affascinante sì 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 assolutamente poi si è veramente staccata anche narrativamente cioè oltre nelle spiegazioni come dici tu tipo ad esempio in Odyssey c'era stata quella polemica delle statue coperte con le foglie insomma per coprire le parti intime però il cazzetto lo puoi dire il cazzetto qui si può dire il cazzetto il cazzetto però anche narrativamente cioè questa parte di fantastoria di fantascienza c'è ma viene davvero molto staccata o messa appunto molto in DLC si mescolano più con le grandi cose della storia cioè con i grandi eventi della storia con i grandi personaggi della storia esatto cioè adesso si tende a fare una storia abbastanza semplice diciamo nella parte passata poi c'è la missione extra in cui che ne so vai a ammazzare il ciclope e quindi poi ti scrivono la leggenda dei ciclopi perché c'è questo essere modificato che ha un occhio solo bla 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 però non viene mischiato a dovere e infatti qualcuno ha detto prima che non adesso i misteri non ci sono più un po' è vero cioè la stessa saga poi ha smesso di seminare cose per farti un po' fare ipotesi fare teorie davvero andare in giro nelle chiese ogni volta che vedi una cosa che ti sembra non lo so una mela dell'Eden indicare il quadro dirà guarda forse è una mela dell'Eden potrebbero usarla per il prossimo Assassin's Creed è andato un po' perdendosi questa cosa è un peccato è un peccato anche da qui non ne faccio solo una questione di estensione dell'open world che secondo me qui è molto più commisurato alle necessità di un giocatore rispetto a quello sconfinato degli ultimi capitoli ma per me io ne faccio anche una questione di fascino per me questi capitoli sono sono perfettamente d'accordo allora sicuramente va detto forse anche la passione di Yuri deriva da questo che il medioevo il rinascimento comunque c'è quella zona del mondo della storia era molto interessante si hanno anche tanti reperti che ce ne parlano sicuramente è difficile anche per Ubisoft ovviamente è una scelta che hanno fatto loro andare a cercare l'antico Egitto e l'antica Grecia è più difficile no? cioè come dicevi tu mancano anche dei personaggi storici di peso tra virgolette non che non ci siano stati però anche quando si studia la storia spesso si studiano veramente si passa da centinaia a centinaia di anni da l'uno dall'altro dove sembra non sia accaduto nulla invece qua davvero ogni anno ogni mese abbiamo delle date precise succedeva qualcosa quindi magari c'era anche questo Lara grazie mille per il ride benvenuti a tutti quanti ragazzi siamo ripercorrendo un pochino ripercorrendo un po' la storia del secondo Assassin's Creed dopo aver ripercorso aver raccontato un po' che cosa succedeva davvero nel medioevo sia a livello di congiure politiche sia a livello di che era un sacco interessante adesso stiamo un po' ripercorrendo ecco il dottore della peste un po' sbagliatino ma Yuri era la maschera proprio così o il becco scendeva un po' più giù vieni vieni racconta racconta venga venga il becco era molto più giù ed era pieno di questi petali se hai cercato scusami allora se hai cercato anche semplicemente su google dottore della peste storico eccetera fa molto più paura di questo ok ok questo è sicuramente un esempio di bisogno di gameplay di avere il medico riconoscibile sei vie di distanza ovviamente senti allora visto che stiamo comunque arrivando anche alla fine poi torniamo la settimana prossima vi facciamo sapere quando con il primo capitolo quindi il primo Assassin's Creed che io lo dico non ha avuto l'impatto pop di questo secondo probabilmente non era neanche rifinito come la trilogia di Ezio ma per me le suggestioni che manda e il coraggio che ha nel raccontare un momento storico che poi è quello delle crociate anzi nemmeno le prime nemmeno quelle più conosciute e diciamo una zona geografica che mai aveva fatto mai era arrivata nel no Marco facciamo vedere dopo mai era arrivata nel mondo dei videogiochi per me lo rende ancora superiore super fascinoso sì sì sono totalmente d'accordo ma ne parliamo la settimana prossima però visto che stiamo arrivando alla fine io sono curioso di sapere intanto quali sono i tuoi capitoli preferiti e che cosa vorresti nel futuro della saga allora capitoli preferiti beh allora sicuramente quelli di Ezio mi sono piaciuti un sacco probabilmente quello a cui sono più legato per una serie di motivi è Revelation perché comunque chiudeva la storia di Ezio c'era l'incontro con Altair quindi insomma c'era anche questa cosa il primo sicuramente perché è quello che ha dato inizio a tutto e quindi ha un fascino enorme e forse di quelli più più moderni devo dire che Origins mi aveva mi aveva ridato un po' di di fuoco per la per la saga che però come ho detto prima è svanito abbastanza presto nel futuro invece dove vorresti andare? allora ci sono questi rumor che parlano di allora c'è il famoso remake di Assassin's Creed 1 che anche prima chiedevano in chat che tutti vorrebbero devo dire che in effetti tornare da quelle parti mi piacerebbe io ci metterei la firma assolutamente sì però senza gli spazi sconfinati degli ultimi Ubisoft no ci hai rotto i coglioni con queste cose troppo grande troppo grande ammigura di uomo e soprattutto di un 38enne che pure c'è da fa io sono qui in live gioco davanti alle persone però ecco non è che ci posso mettere 76 ore per finire un capitolo fammene uno di 25 se voi mettete i punti di domanda io li devo far sparire non ce la faccio a non farli sparire non metteteli più no sì mappa assolutamente più piccola ma anche questa ci metterei la super firma e perché dico a Assassin's Creed 1 comunque quella zona lì perché appunto è il medioevo voglio tornare un po' alle armature le spade voglio un po' insomma quel tipo di c'è Yuri dietro le quinte che dice sono tutte sbagliate io le vogliamo le vogliamo le vogliamo realistiche stavolta mi dispiace perché fra l'altro Yuri aveva pure portato delle immagini che poi non abbiamo delle spade no non delle spade ma dei paramenti dei costumi delle no dei costumi delle armature che che venivano utilizzate all'epoca e volevamo magari fare un confronto eccole qua però poi vabbè non c'è stato tempo ma magari insomma torneremo anche a raccontare anche queste cose qua questa è la maschera del dottore della peste originale aspetta ma bellissima in pelle praticamente diciassettesimo secolo Germania dice Yuri tantissima quant'è comunque diversa anche dall'immaginario che pure i videogiochi hanno contribuito a fissare un po' eh esatto infatti quella che si è fissata nell'immaginario ci dice Yuri è la maschera del carnevale verenziano il dottore della peste aveva sembrava uno scafandro proprio con l'idea di isolarsi completamente magari da chissà che cosa queste microparticelle eh certo va bene va bene e quindi voglio un po' di medioevo voglio un po' di età oscura così quindi speriamo Marco grazie farei rientrare Marco grazie a voi chiudiamo la live eccomi che cosa che cosa abbiamo fatto oggi no ma pensa se io ho una roba pensa se quello stronzo di Yuri non fosse venuto lui cioè non voleva venire voleva far venire altra gente adesso appena ti spiace insulto proprio mi dispiace perché è arrivata solo con i ride cioè tornate indietro e guardatevi la live fidatevi di me fidatevi di me no no ma per davvero oppure la trovate in replica su youtube insomma Yuri non voleva venire non voleva venire ha detto no ma prima chiamo le assistenti di un professore forse vediamo il professore no cioè veramente ma io sapevo che sarebbe stato come ti permetti Yuri va bene quindi no grazie diciamo una cosa però grazie per la partecipazione che è stata veramente masciente ovviamente grazie che ci ha ridato con appunto ride eterni grazie siete stati in tanti a seguire una roba che era veramente puramente di storia cioè una lezione di storia alle 4 del pomeriggio grazie perché non è consuetudine e siamo contenti di aver fatto una cosa del genere perché è comunque direi nello spirito di round 2 cioè provare a fare qualche cosa di un po' diverso e quindi questa questa era l'idea va bene noi glielo quando vuole può tornare cioè noi già veramente escono due giochi nei prossimi due mesi power pizza podcast grazie con due ambientazioni molto storiche come pentiment e plague tale avrebbe cioè ci piacerebbe se potesse tornare e quindi vedremo tra l'altro afferenti alla sfera di ciò che piace al signor al signor Yuri va bene ragazzi allora noi stacchiamo io fra due ore c'è una live sul canale di playstation spoiler tra un'ora tra un'ora le 6 questa giornata per me guarda ci vediamo domani mattina dalle 10 alle 12 noi streamiamo tutte le mattine appunto in quella fascia oraria per chiacchiere cazzeggio vari ed eventuali magari domani spero di potervi raccontare qualcosa di più di immortality che sto giocando grazie a tutti siete stati meravigliosi grazie per il supporto vi mandiamo un abbraccio e adesso ringraziamo tutti e due gli ospiti ringraziamo Marco e ringraziamo Yuri direi che possiamo fare un ride visto che di pomeriggio streamiamo raramente c'è Data che è online io direi che lo facciamo a lui ciao baci a domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti